carissimi amiche carissimi amici buon pomeriggio dal vostro giocherellone ragazze ragazzi il giocherellone è tornato in questo pomeriggio vi fa vedere addirittura ragazzi il fantastico il mitico pensate un pochettino colin mccray rally 3 ebbene sì ragazzi è tornato colin mccray rally in realtà colin mccray è morto e deceduto a seguito di un incidente con un elicottero il suo elicottero per la precisazione però i giochi di rally che furono creati alla fine degli anni 90 dalla codemasters sono ancora attualissimi sono ancora bellissimi da giocare il giocherellone infatti vi porta questo fantastico titolo di rally ovvero colin mccray rally 2 avevamo già visto il primo per sony playstation 1 avevamo visto il 2 per pc e vediamo il 3 vediamo il 3 praticamente ecco qua grande manux network buon pomeriggio giocherellone grazie a te caro manux network buon pomeriggio a te stasera veramente colin mccray rally giocherò abbastanza perché mi piace adoro questo gioco praticamente già l'ho giocato praticamente ieri sera l'ho giocato ieri sera e quindi ragazzi immediatamente iniziamo a playare iniziamo a giocare con il rally praticamente vedete un pochettino possiamo fare praticamente un campionato possiamo fare dei percorsi quindi praticamente guidare ogni percorso ogni auto o più a più giocatori quindi fare un rally singolo o addirittura fare fare praticamente una singola gara abbiamo la possibilità di andare nelle opzioni possiamo andare addirittura negli extra mode quindi vedere il video di colin mccray rally 3 l'indicar serie vedere quindi video di indicar serie e tornare praticamente indietro perché se noi premiamo praticamente questo però vedete ragazzi questa è praticamente l'introduzione al gioco ne possiamo uscire e possiamo vedere anche il gioco degli indicar vedete ci sono proprio dei filmati d'epoca in realtà questi filmati sono in bassa risoluzione non per la mia qualità di streaming anzi oltretutto dovreste trovarla adesso che ho praticamente il multi pass la possibilità quindi di utilizzare altre risoluzioni potrete poter potete vedere praticamente il video a una qualità maggiore indicar series qui è un altro gioco praticamente della code masters che viene quindi pubblicizzato proprio in questo mitico colin mccray rally era una prassi praticamente normale che andava in quegli anni ovvero il fatto di pubblicizzare il prodotto c'è altri prodotti nel prodotto che appunto veniva venduto vedete addirittura 33 macchina anche se i videogiochi di indicar in realtà non è che siano tanto belli per quale motivo in primis per una versione di varietà delle ambientazioni che cosa vuol dire ragazzi delle varietà delle ambientazioni che ovviamente siamo sempre in circuiti di gara con ovviamente ci sono degli spalti ci sono delle un pochettino diciamo a punto di vista ambientale passaggistico ecco passaggistico diciamo abbastanza sfoglie quindi non stiamo parlando sicuramente di titoli come i giochi di rally che sono molto molto divertenti anche perché quasi sempre vengono giocati va bene ragazzi indicar 3 ovviamente poi casomai lo vedremo lo vedremo torniamo indietro pensate colin mccray rally 2 esce su playstation 2 anche mai c'è anche su pc nonché su xbox perfetto ragazzi facciamoci per prima cosa un percorso vedete la grafica ho messo praticamente una grafica 4 terzi quindi ma avete la copertina avete la chat perfetto giochiamo un giocatore si può giocare pensate anche a quattro giocatori insieme veramente incredibile ragazzi vedete vado in un giocatore possiamo scegliere e adesso coale a sandro arcangeli carissimi ci manda il cuoricino il cuoricino a forma di culo di sedere praticamente alessandro arcangeli la 4x4 ford focus rs vr c2 praticamente 300 a bhp con le mccr rally grande classico soprattutto tutti gli episodi sono belli dobbiamo dire la verità c'è la mythical mitsubishi lens rev 7 7 praticamente 4x4 290 bhp la citrovan xara praticamente 290 bhp la subaru imprezza che ovviamente voi sapete l'auto di colline mccr rally praticamente è stata l'auto di colline mccr rally per tanti anni 4x4 288 bhp e poi c'è la mgz rr li praticamente attrazioni anteriori addirittura 204 hp quindi nettamente inferiore una ford puma da 200 bhp rally car e la mitica fiat punto 215 la versione appunto rally della fiat punto iniziamo prendendo una ford focus che praticamente è una delle auto principali praticamente del gioco mettiamo il cambio automatico e andiamo in spagna giusto per iniziare possiamo scegliere il percorso speciale il secondo perché alcuni percorsi sono praticamente vedete ragazzi è bloccati perché li dobbiamo sbloccare dalla modalità praticamente campionato la grafica è veramente molto molto bella il gioco è veramente incredibile sul piano giocabile caricamenti praticamente lampo guardate ragazzi che grafica ancora oggi e oggi questo titolo veramente vanta una grafica di altissimissima qualità soprattutto il giocherone visto il design di ps5 ti piace caro manux è un design un po particolare è un design un po particolare per quanto riguarda i colori non lo so che se verranno presentati alessandro arcangeli fai qualcosa se verranno presentati altri colori però per il resto devo dire la verità hanno cercato sicuramente di innovare di portare sicuramente una varietà alla alla grafica appunto della della solita playstation presentando addirittura un design grafico in stile praticamente bianco e nero molto belle le linee sicuramente ondulate può piacere non piacere diciamo va in controtendenza quelle che ovviamente è il e la grafica è stata praticamente la grafica degli ultimi anni con questi colori neri con questi colori praticamente molto molto studi aiaiai alessandrino e quindi ovviamente caro manux che dirsi si è gradevole si io rispetto sicuramente al ball praticamente al parallelepipedo dell'xbox ragazzi che cosa sta succedendo ragazzi ragazzi stavo per uscire praticamente sopra al ponte potete vedere veramente una grafica spettacolare veramente molto molto bello come titolo per il resto la comprerò praticamente al lancio perché ovviamente ho la mia età ho i miei 41 anni quindi alla fin fine come diceva qualcuno non portarti i soldi nella tomba ragazzi io credo che dopo superati 30 35 anni se voi non avete non avete una compagna non avete moglie non avete fatto i figli iniziate un pochettino a spendervi soldi perché non si sa veramente quando quando bisogna morire cercate sicuramente di non farvi dei debiti cercate sicuramente di mettere sempre il piatto a tavola con le vostre forze però se vi volete togliere un ospizio toglietemelo perché poi dopo ragazzi veramente non si sa quando dobbiamo morire ogni giorno capisco di essere nel libro e nel mondo di pinocchio povertà misere e se sgarri dal sentiero sono guai il maestro pinocchio diceva fino lavora finisce al manicomi per il giorno cimitero di fatti lì ho più letto al mondo dopo la bibbia è pinocchio beh caro alessandro arcangeli si è fatto così è fatto così praticamente perché il l'essere umano soprattutto il maschio si valorizza proprio con il lavoro infatti ieri ieri sera penso ho chiuso un progettone un progettone ti avevo già parlato avevo già parlato a voi che stavo lavorando su un grande progetto ho chiuso il progettone mi sento veramente libero mi sento ovviamente mi sono tolto un peso mi sento realizzato effettivamente il lavoro gratifica l'uomo a volte il lavoro gratifica l'uomo anche se non c'è un guadagno pensate un pochettino io ho realizzato questo ho fatto questo io a volte lo vedo anche in forma praticamente ludica quando vado a giocare quando vado ragazzi a vedere i filmati tutti i filmati che ho fatto in questi mesi del canale del giocherellone e devo dire la verità ne vado orgoglioso sarà una piccola soddisfazione personale però dobbiamo dire la verità anche questo praticamente per quanto sia un gioco per quanto mi riguarda può essere assimilato a un lavoro a un lavoro e quindi devo dire la verità ne vado sicuramente orgoglioso che cosa è successo ragazzi è stato un salto di qualità è stato un salto di qualità il giocherellone vi trova addirittura e bag ragazzi nei giochi sono stato teletrasportato mamma mia ragazzi non avevo mai visto una cosa finché non la vedo dal vivo non riesco a giudicare dal design il design è come la bellezza cioè la bellezza è negli occhi di chi guarda che cosa vuol dire questa questa frase caro manux che in realtà ogni persona ha il proprio gusto praticamente ragazzi siamo arrivati ovviamente alla parte finale andiamo a premere invio per mettere praticamente il nome possiamo addirittura vedete ragazzi vedere il replay quindi che dirvi su questo diciamo che diciamo che è una questione sicuramente di piacere personale bisogna vedere se ti piace ovviamente il design di questa mitica di questa mitica praticamente playstation 4 playstation 5 a me piace quindi credo che praticamente lo andrò andrò praticamente a comprare al volo lo vedete ma i forum litigano come pazzi per soldi e matrimoni caro alessandro arcangeli sai come diceva una persona diceva una persona un gra uno dei grandi filosofi greci antichi che di cui però adesso non ricordo il nome ne ho lette veramente di aforismi nonché di testi di filosofi greci antichi diceva diceva le persone per stare bene non devono vivere sotto lo stesso tetto e beh ragazzi effettivamente non è che avesse torto questo filosofo greco antico per il momento mi piace più il cubo e beh in realtà è un parallelepipedo caro manux quindi il cubo praticamente ha tutti i lati uguali il parallelepipedo ha dei lati disuguali ovvero base le due basi superiori e inferiori sono disuguali rispetto ovviamente ai lati che compongono le parti appunto verticali quindi un parallelepipedo non ti voglio tirare le orecchie però ovviamente il giocarellone che ti vuole bene ti indirizza sempre verso quella che ovviamente per lui è la massima sapienza la massima conoscenza ovviamente delle materie delle materie che ha studiato tra cui anche il videoludo mamma mia ragazzi dobbiamo dire a vetà questo collime crearelli 3 effettivamente si difende veramente bene la grafica delle auto è veramente pazzesca bellissima sembra veramente di vedere un film oltretutto il gioco gira a dei frame di altissimo livello devo dire la verità e su computer anche vecchiotti diciamo che ne vale la pena secondo me giocare ma soprattutto il gioco conquista perché è praticamente altamente giocabile quindi ragazzi che dirvi replay veramente bellissimo guardate ovviamente queste inquadrature la luce solare un po' diciamo stereoscopica Farenz valuta la PS5 ieri ah Farenz ha fatto un video della PS5 beh Farenz ogni tanto compare vedi anche il fatto di Farenz praticamente da quando ha fatto i figli da quando si è sposato diciamo ha perso ovviamente quella giovinezza ha perso anche quella spensieratezza ma soprattutto ha perso il tempo di andare praticamente a fare dei filmati su youtube ma io la PS5 la comprerò praticamente a lancio farò l'unboxing con voi e casomai la installiamo insieme per il resto nei prossimi giorni visto che ho finito quest'ultimo lavoro Mirko Papella è arrivato ragazzi Monasetrotè praticamente Mirko Papella si chiama a volte Monasetrotè il lanciatore di PS5 si le prendo tipo Coriandoli e quindi che cosa succederà praticamente ragazzi nelle prossime giornate vi faccio vedere i componenti che ho comprato per il pc alcuni li montiamo insieme altri non li posso montare insieme a voi e piano piano porterò dei giochi di alto livello tra cui giochi nel re l'hardware visto che ho comprato anche l'elgato per attaccare ovviamente le console al nuovo computer buonasera amico mio, buonasera Mirko Papella, buonasera a te Monasetrotè e beh ragazzi il Monasetrotè, Mirko Papella in realtà voi non lo sapete ha doppiato il Monasetrotè quindi è un personaggio, è un essere praticamente vivente il Mirko Papella di cui però non si sa la biologia non si sa praticamente se egli è un vegetale o appartinato al regno animale o a un altro regno a parte la console ti sono piaciuti i giochi annunciati i giocheri non bene beh allora devo dirti la verità caro Manux io in realtà ho 41 anni quindi per me già per esempio questo Colin McRae Rally 3 è fantascienza nel senso che sono abituato come puoi vedere molto ai videogiochi praticamente ai videogiochi ragazzi è inutile che adesso ci andiamo a rivedere ovviamente il replay ai videogiochi soprattutto bidimensionali e quindi praticamente che cosa faccio? praticamente che quei videogiochi con tutta quella grafica con tutte quelle opzioni praticamente di gioco sono per me veramente cose assurde e quindi sono veramente estasiato ragazzi a questo punto mettiamo come nome praticamente mettiamo Giocherellone praticamente come nome appunto ragazzi andiamo a Giocherellone possiamo scegliere la difficoltà normale, duro e molto duro a me piace normale, ad Alessandro Arcangeli piace duro e a Mirko Papella piace molto duro non diciamo però che cosa va bene andiamo avanti e Sparco Rally Championship per stagione 1 partecipanti al rally tra cui appunto Mirko Papella l'astraliano, Alessandro Arcangeli lo spagnolo il mitico, il mitico Manux Network il finlandese e poi ci sono io va bene ragazzi vediamo un pochettino ci sono questi filmati ripeto in bassa risoluzione che ovviamente bisogna calare sui monitor del tempo la maggior parte dei monitor del tempo erano tutti quanti a CRT monitor appunto a 4 terzi monitor anche piccolini 14 pollici, 15 pollici 17 pollici massimo per che dirvi quindi alla fin fine dobbiamo capire oggi hai il multirisoluzione si ho la multirisoluzione da oggi in poi infatti sto trasmettendo a 1080p finalmente vediamo una qualità di alto livello comunque Alessandrino Arcangeli ti devi praticamente cambiare la connessione a internet perché è assurdo che tu ti vedi ai giochi praticamente a basso livello non sappiamo ragazzi Alessandro Arcangeli anche perché da chi prende questa connessione a internet forse la scrocca da un'anziana da un'anziana sproveduta che praticamente gli ha dato gli ha dato praticamente gli scrocca appunto la connessione qui possiamo iniziare il rally possiamo vedere esegue una prova dell'impostazione attuale registra i dati e possiamo fare addirittura la configurazione attuale dell'auto quindi vedete un pochettino come è fatta praticamente i freni praticamente il cambio il rapporto dei cambi pneumatici il motore addirittura se io vado a cliccare qui sul motore il telaio le sospensioni la virata mamma mia ragazzi veramente un gioco ben ben fatto informazione addirittura sul percorso vedete ragazzi possiamo avere praticamente le varie informazioni sul percorso quindi niente è praticamente lasciato a casa lo scrocca da una milf ma un pochettino dalla nonna dalla nonni te la ricordi Manox Network che come password del wifi a Paperino Paperino e Topolino gli piace Topolino gli piace soprattutto Pippo ragazzi telemetrie siamo andati nei tre migliori giri di prova vedete ragazzi veramente c'è di tutto e di più all'interno di questo ready iniziamo noi ovviamente a giocare a playare ragazzi come vogliamo fare Australia giorno primo Mondaring Mondaring ragazzi e siamo pronti ragazzi sponsorizzato da Certina SwissWatch vedete ragazzi ci sono proprio gli sponsor la grafica veramente molto molto bella in questo fantastico Colley McRae Ragazzi andatevi a vedere ovviamente gli altri giochi di rally che ho trattato ho trattato anche il primo Colley McRae il secondo Colley McRae addirittura VRC quindi farò proprio dei titoli di corsa dedicati soprattutto a quelli che sono i miei follower che amano di più questi titoli ovvero il caro il caro Gasmizzone Gasmizzone e il mitico DottorZombieZ1 che voleva fare l'ingegnere meccanico non sappiamo se DottorZombieZ1 ritornerà ritornerò in ginocchio da te va bene ragazzi vogliamo giocare sta cargando sta cargando ecco Chiodatis ha tutto gas oggi caro Chiodatis però guarda qua Colley McRae è già partito con la mitica Subaru ecco qua chi è quello là forse Birko Papello e questo Alessandro Arcangeli che si guarda le riviste con le donne sozzose addirittura l'uomo che scivola a terra non cammina scivola a terra a livello di dettaglio veramente altissimo ragazzi guardate qua dice vai a destra e tovi la signorina gli dai 20 euro in mano e ti fa le belle cose e quindi Alessandro Arcangeli da questa sua grande esperienza ci consiglia ovviamente dove andare ragazzi immediatamente andiamo qui e che cosa è successo ragazzi ne è meno il tempo di partire praticamente un bug praticamente un bug sono andato via la sgommata in partenza si è la sgommata in partenza che cosa sta succedendo ragazzi che mi hanno fatto mi hanno mi hanno mi hanno praticamente mi hanno messo un bug all'interno del gioco non lo sapevo questa cosa qua ovviamente abbiamo praticamente giocando stasera un vero sposo questo pomeriggio ragazzi è tempo di mangiare pensate che Alessandro Arcangeli a volte mangia le orecchiette le orecchiette praticamente pugliesi queste orecchiette pugliesi fatte a volte con la farina integrale il bug 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 vedete di più il gioco praticamente qui in prima persona per farvi vedere la bellezza praticamente grafica mamma mia ragazzi sembra veramente di guidare un altro e vi ripeto la fluidità ma soprattutto la giocabilità di questo gioco è altissima ogni tanto c'è qualche bug c'è qualche bug fai qualcosa Alessandrino ragazzi Alessandro Arcangeli metto qui una retromaccia ragazzi sto giocando male perché mi sto esaltando mi sto esaltando per quello che è la velocità soprattutto del prodotto andiamo a vedere mamma mia ragazzi guardate ovviamente qui sopra che cosa torniamo troviamo ma voglio farvi vedere ovviamente il gioco in prima praticamente in terza persona ovvero facendovi vedere la macchina veramente un gioco divertentissimo giocabilità veramente altissima qui potevamo usare forse il freno a mano per derapare vedete ragazzi qui dobbiamo sicuramente derapare ma subito dobbiamo accelerare bellissime veramente le sospensioni ovviamente tutte le parti appunto della macchina guardate questo percorso con questo muretto molto caratteristico dobbiamo dire la verità di questo ovviamente titolo e finalmente siamo sulla terra i cocomeri di giugno no no caro Alessandrino non ancora ho provato i cocomeri sto mangiando i ravanelli praticamente in questo periodo dell'anno effettivamente sono fortemente depurativi sono fortemente depurativi soprattutto dopo un periodo di forte stanziamento a casa quindi di ritenzione idrica ho visto effettivamente molti colleghi ma anche io ho avuto un po' di ritenzione idrica adesso la sto smaltendo in questi giorni praticamente anche soprattutto bevendo l'acqua e il succo del limone voi sapete il succo del limone contiene l'acido ascorbico ovvero la vitamina C appunto la vitamina C è un acido e quindi tende praticamente ad accelerare la metabolizzazione dei grassi quindi è proprio si può dire che li vada a sciogliere c'è qualche personaggino su internet che dice che il succo del limone non serve a niente ma questo personaggio sicuramente questi personaggi ma soprattutto uno praticamente è abbastanza ignorantelo ovviamente cerca di portare acqua al suo mulino dicendo ovviamente che ovviamente questi rimedi naturali non servono a niente invece non è vero basti pensare che c'è gente che attraverso una corretta alimentazione utilizzando alcuni alimenti come appunto il succo del limone che chiaramente è calata tantissimo di peso perché appunto la vitamina C che è una vitamina diciamo reale nel senso imperiale importantissima per il nostro corpo tende a sciogliere proprio i grassi da un punto di vista volgare del termine nel senso che accedere il metabolismo il giocherellone scusa la domanda ma perché i clienti sono così odiati e caro Manux Network sono odiati perché il volgo ovvero il popolo il popolo ignorante tende a tende sempre tende sempre a odiare chi percorre la giusta via la retta via ed è fatto così ed è fatto così ragazzi guardiamoci il replay perché secondo me ne vale la pena del replay e quindi come si dice la persona corretta è sempre odiata dalla massa basti pensare praticamente basti pensare che nell'antica Roma chi non guardava i giochi dei gladiatori veniva indicato come una persona diciamo diversa particolare poco virile di poco valore quindi la stessa cosa per esempio un pochettino con le partite di pallone che fai non guardi il calcio allora sei omosessuale non guardi il calcio allora diciamo sei stupido perché non guardi il calcio non ti fila la tua squadra del cuore quindi alla fin fine sono queste diciamo questi elementi che ti fanno capire che in realtà dal volgo ovvero dal dal popolino dalla massa devi sempre distaccarti sicuramente se vuoi perseguire un livello di etica di morale ma soprattutto di perfezionamento della tua persona ti devi distaccare dalle altre persone molti vegani però sono talebani verso gli altri allora il problema è questo Alessandro Arcangeli il problema è questo allora da una parte è sicuramente un atto di malvagità se tu puoi mangiare la carne puoi mangiare il frutto andare a mangiare la carne perché tu vai a togliere una vita il frutto alla fine la vita la tiene nei semi nel senso che io per esempio quante volte quando mangio una mela tolgo i semi e li metto nei vasi praticamente nei vasi che tengo sul giardino poi casomai metterò qualche foto su instagram in merito a questo e per il resto invece per il resto invece soprattutto ovviamente c'è anche il consumo di suolo eccessivo perché per dare da mangiare agli animali bisogna ovviamente coltivare molti più campi di vegetali che servono per gli umani poi ovviamente c'è tutta la parte ovviamente ambientale che va considerato ovvero per esempio tutti questi diciamo tutte le feci che vanno a generare questi animali da allevamento intensivo vanno ad incidere sull'ecosistema quindi effettivamente c'è veramente di tutto e di più a critica di chi fa ovviamente un'alimentazione onnivora però sicuramente bisogna avere la giusta misura che cosa significa avere la giusta misura che non possiamo di certo imporre agli altri di non mangiare di non mangiare la carne pensate un pochettino agli eschimesi se noi andiamo al polo sud dove praticamente ci sono gli eschimesi che mangiano le carni perché mangiano le carni perché non c'è la possibilità di coltivare i campi allora loro sono cattivi loro distruggono il pianeta ma oltretutto c'è anche un'altra considerazione nel senso che nel senso che è normale che guardate queste rocce ragazzi guardate come sono fatte bene le texture diciamo che diciamo che è una cosa ovviamente molto molto importante e anche il fatto e quindi bisogna capire ovviamente dove ci troviamo in che luogo ci troviamo da un'altra parte c'è il fatto che ovviamente prima o poi la terra finirà perché il sole si espanderà secondo quelli che sono gli studi astronomici moderni e quindi aumenterà il calore sulla terra e questo calore porterà ovviamente all'eliminazione della maggior parte delle forme di vita e quindi tendenzialmente non uccidere gli animali è inutile perché prima o poi gli animali moriranno gli altri animali che non siano gli animali gli umani voi sapete gli umani sono catalogati come animali allora l'ignoranza è l'ignoranza purtroppo e chiodatis l'ignoranza è uno dei più grandi mali dell'umanità ma siamo tutti ignoranti ci mancherebbe guardate qua ragazzi bellissimo questo salto è come una filosofia di vita allora caro Manux è proprio un approccio al miglioramento ovviamente devi saper mangiare nel senso che se tu mangi tutti i cibi precotti o cibi già ovviamente creati diciamo cotti e non mangi cibo crudo o non sai combinare praticamente gli alimenti sicuramente ti troverai in un deficit proprio a livello vitaminico a livello proteico a livello di carboidrati quindi dobbiamo anche capire che c'è bisogno c'è bisogno di uno studio praticamente dietro molti dicono che i vegani hanno un linguaggio molesto nel corso di quelli che non lo sono ma caro Manux in realtà ti arrabbi ti arrabbi perché ovviamente dici scusami ma se tu puoi mangiare i vegetali e vivere non solo come chi mangia le carni ma meglio di chi mangia le carni per quale motivo praticamente devi andare praticamente a mangiare la carne a bere il latte il latte è cancerogeno è cancerogeno per la prostata maschile ed è cancerogeno per le mammelle femminili e questo lo dice la scienza però ovviamente dietro c'è un tutto un mercato praticamente c'è tutto un mercato del 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 latte praticamente come si può andare praticamente a dire da chi produce il latte dice da oggi in poi non vai più a produrre il latte si può dire questa cosa e poi il lavoro ovviamente a quelle persone chi lo dà chi lo dà il lavoro a quelle persone ragazzi no chi lo dà Mirko Papella ragazzi allora dobbiamo anche capire che ci vuole una giusta misura oltretutto bisogna capire anche dove stiamo nel senso che mi ricordo c'era un famoso dottore il dottor Tozzi che mangiava la carne ovviamente lui mangiava poco quindi è una persona molto magra su cui si è molto attiva si muove fa delle passeggiate in montagna quindi in realtà è molto molto attivo forse non ha ovviamente alla sua età nemmeno diciamo delle esigenze sessuali però ovviamente parla di mangiare la carne però il dottor Mozzi scusami no il dottor Tozzi quello è un altro e non è un dottore e quindi ovviamente che cosa succede che cosa succede che ovviamente dove vive lui però non ci sono i campi agricoli ci sono solamente i pascoli allora che cosa vuol dire questo che bisogna capire ah ragazzi che cosa è il teletrasporto il teletrasporto in questo gioco e quindi ovviamente ovviamente bisogna anche capire dove ci troviamo dove ci troviamo è facile dire per esempio a Napoli si fa il vegano perché ovviamente nel sud Italia ci sono tantissimi campi agricoli e la frutta e la verdura costa veramente molto molto poco mentre invece ovviamente in un'area per esempio montane è molto più difficile dire vai a fare vegano perché ovviamente lì ci sono i pascoli quindi ovviamente gli animali ervivoli mangiano l'erba che lì cresce in una grande quantità grande quantità e ovviamente gli esseri umani mangiano quindi mangiano quindi praticamente le carni scusami perché dici scusami Manus non c'è nessun nessun elemento di cui scusarti sul canale di Giocherellone se tu vai sul canale di Giocherellone praticamente sia su YouTube che l'archivio del Giocherellone che addirittura sul mitico canale di Twitch che cosa puoi vedere puoi vedere la prima cosa scritta qual è c'è scritto Giocherellone parlare di tutto videogiocando quindi tu puoi parlare chiedere di tutto e di più quindi non ti preoccupare se io ho una risposta da darti o anche in base alla mia cultura in merito perché non dartela perché non dartela ma soprattutto ragazzi perché non giocare ovviamente in prima in prima in prima in prima faccia in prima in prima persona ragazzi guardate qui ovviamente il faccio che cosa sta succedendo dove mi trovo la palma ragazzi la palma di Alessandro Arcangio dobbiamo andare sul ponticello a volte si sbaglia il percorso ed è per questo che in realtà dobbiamo studiare il percorso comunque ragazzi è veramente un gioco bellissimo guardate ovviamente questa parte qua sembra una vera e propria avventura guardate qui sopra è veramente qualcosa di stupendo divertentissimo sicuramente ma soprattutto i comandi ragazzi pensate un pochettino che io sto giocando col joypad dell'Xbox One col joypad che pagai praticamente 40 euro e teneva praticamente anche il cavetto praticamente un joypad con cavetto si attacca infatti lo gioco praticamente attaccato all'USB del PC veramente un ottimo joypad è un joypad di plastica è un joypad di plastica sicuramente non ha quella compostezza ragazzi qui vado a tirare il freno a mano e per questo non vedete pratica mamma mia e beh ragazzi qui guardate ovviamente le persone e quindi ovviamente devo dire la verità è un ottimo joypad ragazzi incredibile ragazzi incredibile col giocherellone mamma mia freno a mano freno ovviamente tirato addirittura ragazzi freno a mano mamma mia e vai vai sul ponticello guardate qui su e beh ragazzi è veramente bello oltretutto le macchine ripeto sono veramente ben disegnate mi voglio veramente fare tante ore di gioco praticamente a questo titolo perché ne vale veramente la pena vi consiglio sicuramente di procurarvelo ve lo trovate veramente a pochi euro quello che vi consiglio però è di giocarlo in versione PC in versione PC e casomai con il mitico il mitico DX VND che permette di giocare la maggior parte dei titoli di vecchia generazione in finestra se sarà San Paolo sarà deserto sarà deserto e beh non dovrebbero esserci assembramenti però che dirti non so cosa accadrà effettivamente effettivamente non c'è praticamente nessuno però per fortuna sono riprese le partite in modo tale da dare a chiama ovviamente lo sponso qualcosa di molto interessante ragazzi immediatamente il giocherellone ovviamente guardate qui come vado praticamente a fermarmi veramente bellissimo guardate qua si sta staccando tutto della macchina ragazzi molto molto brutta questa situazione però voglio vedermi il replay perché il replay da parte dei programmatori della Codemaster veramente fatto bene ripeto sembra veramente di guardare una gara di rally quindi che dirvi ragazzi sicuramente rispetto a Colly McCreary 1 per quanto Colly McCreary 1 sia un gioco bellissimo e Colly McCreary 2 sicuramente il gioco è migliorato tantissimo la grafica per quanto mi riguarda è spettacolare e stiamo parlando di un gioco che in realtà viene poi portato anche su Playstation 2 lo stesso Colly McCreary 4 esce poi dopo su Playstation 2 e Xbox quindi stiamo parlando veramente di titoli vecchi e ripeto il bello di questi prodotti che in realtà sono ancora attuali quindi a volte diciamo comprare dei giochi spendere dei giochi spendere certe cifre per dei giochi quando ci sono già prodotti del genere che spesso sono graduiti eccolo qua ragazzi il colui a cui è dedicato questo gioco perché voi sapete che Gasmison adora guidare adora guidare quindi gli porto praticamente il Colly McCreary 3 a lui lo dedico a lui al mitico Dottor Zombie Z1 che adesso non so che cosa starà facendo forse sta dietro voi sapete il Dottor Zombie Z1 praticamente ebbe un'offerta economica dalla mamma la mamma di Dottor Zombie Z1 gli disse caro Andrea caro Andrea se tu ovviamente mangi di meno io per ogni chilo che perdi ti do 10 euro allora che cosa fece Dottor Zombie Z1 iniziò a mangiare praticamente a tutta forza in modo tale da poi dimagrire guardate qua anche gli effetti grafici praticamente l'effetto della legga del fumo praticamente non va a inficiare sulla compostezza grafica si caro Gasmison questa è la versione per pc non è la versione per playstation 2 la puoi trovare veramente a pochi euro praticamente usata e ti consiglio di giocarla soprattutto sui nuovi sistemi operativi ovvero Windows 10 in realtà il gioco è compatibile con Windows 10 quindi in realtà però non lo puoi mettere in finestra non lo puoi mettere in finestra e non lo puoi mettere a 4 terzi perché tende a strecciarti l'immagine e ti consiglio di giocarlo con l'applicazione che sto usando io ovvero DXVND la grafica come puoi vedere è veramente bellissima sembra veramente di guidare praticamente di guardare una gara di rally e soprattutto il titolo è iper divertente veramente la giocabilità è veramente altissima le macchine sono modellate in una maniera incredibile ci sono gli sponsor bellissimi anche praticamente ipercorsi guardate qui ragazzi è veramente qualcosa di assurdo di assurdamente fantastico ragazzi mamma mia guardate sul ponticello come ovviamente si sposta il tutto dobbiamo dire la verità il gioco merita ragazzi il gioco merita perché perché è veramente fantastico oltretutto ho messo praticamente tutti gli effetti al massimo e quindi potete vedere veramente ragazzi qualcosa di incredibile sotto questo praticamente piano va bene ragazzi continuiamo ovviamente con la nostra gara ovviamente possiamo andare a continuare quindi il campionato vedete la nostra macchina sta veramente cadendo praticamente a pezzi viene caricato il percorso i caricamenti sono all'inizio diciamo vedete ragazzi ovviamente vedete come viene caricato ovviamente il percorso sono abbastanza veloci vabbè è un gioco vecchio alla fin fine vedete in quasi immediati e dobbiamo gareggiare contro la Subaru in realtà linea di partenza sì però voglio anche diciamo andare a cercare di aggiustare praticamente la macchina perché ragazzi guardate stato medio stato dive intatto spoiler ovviamente alcune macchine all'arrivo non hanno bisogno pure dei meccanici eh sì sono fatte così queste macchinine caro gas però in realtà guarda qua veramente la sto distruggendo questa macchina guarda qua 3 2 1 e subito si va e che succede ragazzi nemmeno il tempo di partire è subito un bug nemmeno il tempo di partire è subito un bug ragazzi un pochettino buggato devo dire la verità non ho applicato nessuna patch io credo che siano sicuramente uscite delle patch avevo praticamente il gioco verginello però la partenza è buggata questa partenza è perché io accelero al massimo accelero al massimo ma credo che sicuramente sia uscito sia uscito una patch praticamente per risolvere questo problema non l'ho applicata pensavo devo dire la verità i codemaster sono veramente bravi come programmatori però ovviamente in giochi complessi come questo ragazzi dobbiamo dire la verità in giochi complessi come questo bisogna anche capire bisogna anche mettersi dalla parte loro ovviamente che chissà quante cose tu ridi Gasmisone visto il bug praticamente tu premi l'acceleratore finisci dentro agli alberi e se non ci fossero gli alberi affinivi a casa di Alessandro a prendere detto questo ragazzi stiamo ovviamente attenti da questa parte qua e perché dobbiamo anche indagare su Alessandro Arcangeli da chi scrocca ovviamente la connessione perché questa connessione lenta di Alessandro Arcangeli ragazzi ci fa pensare ci fa pensare che Alessandrino praticamente scrocca la connessione da qualcuno non lo sappiamo da chi la scrocca forse dalla signora anziana dalla signorina che ovviamente si guarda i film di Totò di Peppino Di Carli ragazzi qui immediatamente oh e che cosa sto facendo mi aveva detto che la curva era difficile da interpretare invece una curva in realtà salterellina però dobbiamo dire la verità dobbiamo dire la verità mamma ragazzi comunque è veramente bello il gioco e ripeto una sensibilità del gioco perché la curva si porta in una macchina da rally perché se si rompe praticamente la macchina chi la va a mettere chi la va a mettere ah ragazzi ho perso ho perso il 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 ho perso il 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 lo vedremo praticamente nel replay, con controlli molto sensibili, dobbiamo dire la verità, vado il treno a mano ma subito, vado praticamente ad attaccare, ragazzi, no, 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 ho premuto praticamente il tasso per cambiare la visuale, ma immediatamente vado ovviamente a guidare, a riprendere ovviamente la guida, oltretutto come potete vedere ci sono all'interno dell'autovettura anche i mitici piloti, quindi veramente divertentissimo, ma soprattutto anche il fatto che ovviamente la macchina si sporchi, superiore a sigarelli, beh, sigarelli sicuramente è un approccio più arcade al gioco e quindi effettivamente sono titoli diversi, se voi avete visto praticamente anche le mie passate live ho praticamente utilizzato, ho giocato anche a sigarelli, gioco veramente bellissimo, soprattutto il primo ma anche il 2 non è male, devo dire la verità, per quanto riguarda i miei ricordi ovviamente di fanciullo, di ragazzo per il resto ovviamente sono tipologie di giochi di rally diversi, ovvero sigarelli praticamente in gioco arcade mentre questo, ah, è dillo Mirko Papella, Mirko Papella dove si trova ragazzi, il papellone dove si trova che sta facendo, sta mangiando pasta e fagioli, poi vi porterò anche il mitico gioco di Terence Hill e Bud Spencer ovvero schiaffi e fagioli, schiaffi e puzzette praticamente, fagioli e puzzette, ovviamente il seguito è fagioli e puzzette col mitico Bud Spencer e Terence Hill, Bud Spencer colui che purtroppo è morto, Luca si può dire politicamente a chi si affine caro Alessandro Arcangeli, io sono apartitico, apolitico, non mi interessa la politica perché per quanto mi riguarda la politica è una delle cose più, diciamo, la politica la possono fare tutti e nella maggior parte dei casi il politico ti vende delle, 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 delle fantasie, fantasie spesso irrealizzabili ma allo stesso tempo si schiera ovviamente da chi appunto lo ha votato in realtà quando si prende il controllo non bisognerebbe fare ovviamente i pro di chi ovviamente ha votato ma i pro ovviamente di tutti, il bene di tutti a me non piace sigarelli, quello va giocato con il cabinato caro Gasmison, sì effettivamente che sigarelli va giocato con un cabinato o almeno con un volante e ovviamente una pedaliera e un cambio ma non è da meno, non è da meno ovviamente questo ovviamente Coli McCreary 3 nel senso che Coli McCreary 3 può essere giocato con il joypad però, però in realtà, in realtà andrebbe giocato col volante andrebbe giocato col volante, la grafica ragazzi è veramente spettacolare guardate anche gli alberi, la pulizia proprio di queste texture anche di questa modellazione per quanto siano alberi copiati e incollati a tutta forza però, dobbiamo dire la verità, c'è una grande programmazione dietro soprattutto se si parte dal primo Coli McCreary 3 che in realtà era un prodotto veramente molto molto bello un prodotto veramente incredibile vedete ragazzi, sto perdendo praticamente pezzi della macchina tra un percorso e l'altro guardate ovviamente questa inquadratura, veramente bellissima signori ripeto, è bello anche da vedere Coli McCreary 3, pannella ti piaceva? fumava come un tour pannella ha fatto delle cose diciamo molto interessanti per lo stato italiano, ha praticamente regolamentato l'aborto con ovviamente col suo partito il fatto ovviamente, per quanto per esempio l'abbonino possa essere criticata fortemente dal fatto che ovviamente praticava degli aborti clandestini voi lo sapete questo, quando era giovane e allo stesso tempo, o meglio faceva praticare degli aborti clandestini fu anche indagata per questo ovviamente c'era pannella il fatto ovviamente del divorzio in Italia per fortuna portò il divorzio in Italia dove effettivamente le coppie potevano anche separarsi alla fine il matrimonio è un istituto sicuramente che almeno al giorno d'oggi sicuramente reputo inutile inutile perché si può benissimo fare una convivenza però in quegli anni era qualcosa di saldo perché proprio lo stato fondato sul lavoro, sulla famiglia e quindi sulla famiglia è legato al matrimonio un matrimonio non solo civile ma addirittura matrimonio che andava fatto praticamente in chiesa quindi c'era un forte legame per quanto l'Italia sia uno stato laico c'era un fortissimo legame con ovviamente la chiesa cattolica di Roma e quindi era impensabile diciamo sposarsi solamente civilmente per fortuna pannella portò praticamente la possibilità di separarsi quindi di chiudere ovviamente una relazione matrimoniale oggi sicuramente viviamo in un mondo fortemente libertino uomo e donna possono praticamente fare gli stessi lavori per quanto ancora oggi sento dire che in realtà la donna non ha le stesse possibilità dell'uomo per quanto mi riguarda invece la donna ha più possibilità dell'uomo perché in realtà oltre a poter fare gli stessi lavori dell'uomo può anche fortemente fare uno dei mestieri più antichi del mondo che le può portare ovviamente tanti guadagni lo può portare attraverso il virtuale tipo per esempio le camgirl ma anche dal reale basta vedere che in Germania le donne che praticamente fanno le escort nei bordelli regolamentati in Germania, in Spagna, in Grecia, in Austria e in Svizzera praticamente guadagnano tantissimi ma tantissimi soldi e hanno, non mi sembra che siano malate nel senso che siano povere e disgraziate anzi sono loro forse che alimentano i mercati economici di lusso le borse, i vestiti, le auto addirittura, le case di lusso quindi effettivamente dobbiamo dire la verità oggi viviamo forse in un mondo un po' più matriarcale che patriarcale per quanto alcuni bigotti ovviamente io li reputo così perché ovviamente non si può chiudere un occhio sul fatto ovviamente di uno dei mestieri più antichi del mondo che nella maggior parte dei casi è appannaggio esclusivo delle donne dicano no ma la donna ancora oggi è sotto al maschio ma non credo proprio va bene ragazzi basta vedere anche in tribunale praticamente quando c'è una separazione sicuramente la donna acquisisce quasi sempre la casa e acquisisce ovviamente anche la tutela dei figli quindi praticamente deve avere un assegno di mantenimento va bene io ricordo Daetona Usa come su Saturn non era male Daetona Usa non era male ma anche ma infatti l'ho giocato su Siga Saturn caro Manux Network se vai sul mio archivio di Youtube cerchi Sigarelli trovi addirittura la versione per Game Boy Advance infatti praticamente la Siga propose propose la Siga Sigarelli praticamente per Nintendo Game Boy Advance vattolo a vedere perché è molto simpatico quel titolo i radicali dicono Casmizzone predicarò bene ma con i fatti sono un partito come tutti gli altri l'unico scopo è la poltrone e caro Casmizzone la base lo scopo è sempre quello capito e si fa ovviamente si dovrebbe fare l'interesse di chi ci porta a essere eletti e non ovviamente l'interesse sicuramente della collettività quasi sempre è così le Cam Guerre e gli Streamer e gli ASMR fanno tantissimi soldi sì soprattutto se sono febbre Gianfranco Funari era bravo grandissimo Gianfranco Funari un giornalista che sicuramente ha detto tante cose in maniera anche cruda però ha detto tante cose interessanti andatevi a vedere su Youtube praticamente molti interventi di Funari ne vale la pena oltretutto anche le Iene ci hanno fatto praticamente alcuni video su Funari poi Funari è praticamente morto va bene ragazzi andiamo ovviamente a vedere soprattutto poi queste persone nella maggior parte dei casi danno il meglio di loro alla fine della loro vita se voi andate a vedere vabbè io ultimamente ho anche diciamo visto qualche cosa su Luigi Scalfaro voi sapete su Oscar Luigi Scalfaro praticamente che è stato un famoso ragazzi qui dobbiamo sicuramente riparare la macchina configurazione auto vediamo un pochettino di riparare anche mi piaceva Funari Funari è grandissimo freni vediamo un pochettino potenza frenata ok cambio praticamente rapporto alto pneumatici vedete ragazzi possiamo mettere i pneumatici il motore vediamo indietro controllo di partenza super maxi il telaio vabbè ragazzi su queste ovviamente impostazioni non voglio nemmeno toccarle perché in realtà non so nemmeno non so nemmeno come andare ovviamente a configurare bisogna effettivamente perdere tanto tempo andiamo quindi a continuare praticamente il rally vi ho detto è un gioco veramente molto bello al contenuto anche molto lungo ci sono delle macchine ci sono mi sembra anche delle macchine sbloccate andiamo a vedere praticamente vedete dove mi trovo Colli McCreirelli 0 più 12 addirittura è il mitico il giocherellone dove si trova ragazzi giocherellone a quale posto praticamente non ci sono a linea di partenza Colli McCreirelli va bene ma in realtà Colli McCreirelli sarei io adesso qui praticamente freni anteriore va bene ragazzi qui Funari scomodo e fu costruito ad andare su odio non è caro amico mio caro Alessandro Arcangeli Funari è stato anche un forte mi sembra cattolico mi sembra mi sembra devo dire la verità e quindi devo dire la verità devo dire oltretutto mi sembra Funari fosse del segno zodacale del Toro Gasmison approfondisce ovviamente su wikipedia per vedere la data di nascita di Gianfranco Funari comunque è stato per quanto mi riguarda uno dei giornalisti che ha detto diceva le cose in faccia ecco qua ragazzi diceva le cose in faccia e non se ne fregava di niente di nessuno è tendenzialmente stato un cosiddetto cane pazzo più un lupo che un cane pazzo praticamente il cane sciolto praticamente va bene ragazzi che dire comunque come potete vedere in Colli McCreirelli i percorsi sono veramente molto vari in questo caso andiamo praticamente su un percorso molto molto ristretto per quanto riguarda sicuramente oggi andate a vedere anche il profilo di Oscar Luigi Scalfaro ovviamente un personaggio di cui abbiamo parlato ultimamente voi sapete che negli anni 50 quando Oscar Luigi Scalfaro divenne praticamente parlamentare andò ad attaccare praticamente una ragazza una donna che praticamente all'interno di un ristorante si era tolta il sopravvito rivelando le spalle Scalfaro disse in realtà che questa donna si alzò e disse lei offende il luogo in cui si trova questo perché Scalfaro praticamente era fortemente cattolico aveva anche militato all'interno dell'azione cattolica e quindi che cosa aveva fatto praticamente aveva fatto aveva era molto sensibile a questi argomenti oltre tutto segno zodiacale della Vergine quindi segno di abbandono totale dei vizi addirittura di segno legato alla castità e quindi che cosa praticamente molto molto rigido nella sua nei primi in questi suoi praticamente anni di vita in realtà era nato nel 1918 anno 50 aveva praticamente 32 anni appena divenne politico fece ovviamente questa cosa quando a mangiare con due suoi colleghi praticamente all'interno di un ristorante e quando questa ragazza questa donna si tolse la giacchetta disse che lei non era una persona questa ragazza non era una persona praticamente pura e quindi era una persona disonesta perché cercava di attirare le attenzioni degli uomini che cosa successe ovviamente questa vicenda andò praticamente addirittura ci fu un'interrogazione parlamentare in merito a questo e il padre di questa ragazza che millantava la ragazza praticamente nella nuova nel gruppo dei nuovi socialisti il padre di questa ragazza era un ex ufficiale dei carabinieri mi sembra o un ufficiale militare non ricordo di preciso e quindi sfidò a duello voi sapete questo andatevela a leggere questa cosa qua sfidò a duello Oscar Luigi Scalparo poi praticamente il padre mi sembra morì o si ritirò praticamente non è troppo anziano e sfidò a duello il marito di questa signora sfidò a duello Oscar Luigi Scalparo questa cosa ovviamente andò andò a praticamente andò a finì come si dice a pane pomodori ovvero alla buona addirittura Totò ovvero il famoso principe di Curtis Antonio di Curtis ovvero Totò in arte Totò disse che Oscar Scalparo fece veramente un'azione ignobile nell'andare ovviamente a criticare la signora che si era tolta praticamente al soprabbito perché aveva caldo quindi rivelando le spalle e beh ragazzi altri tempi sicuramente cane sciolto battitore libero e giocherone perché dà importanza al segno di una persona caro Manux in realtà io ho studiato astrologia ovvero ho studiato quando ero giovane molto giovane la storia dell'astronomia antica soprattutto quella occidentale e quindi quasi sempre devo dirti avete ammi troppo d'accordo con l'astrologia dei segni che è quella di Claudio Tolomeo Claudio Tolomeo diceva che non esiste un'astrologia delle costellazioni nel senso che stelle molto lontane come appunto le stelle delle costellazioni influenzano poco la vita sulla terra in realtà non le influenzano proprio per niente quasi quasi per niente però ovviamente ci sono le stagioni e quindi chi nasce in una determinata parte della stagione ovvero una parte dell'anno più che altro ha un determinato carattere di base ed effettivamente io mi trovo d'accordo su quelli che sono stati gli archetipi zodiacali oltretutto devi sapere che io prima avevo un altro canale legato alla mia professione e feci degli studi praticamente di ricerca di vulgai praticamente quello che avevo studiato da ragazzo sulla storia dell'astronomia antica che in occidente è fusa con la storia dell'astrologia antica e poi ovviamente prende prende ovviamente un altro percorso Gianfranco Funari si è nato il 21 marzo del 1932 e morto nel 2008 Scalfaro le picconate le ha date alla gente piuttosto che ai poteri forti con cui andava a braccetto facendo finta di litigarci storia vecchia nella politica italiana caro Gasmin non hai detto tutto oltretutto il segno della cara della Vergine è molto opportunista come si dice cattivo con i deboli e sottomesso con i potenti un personaggio molto criticato un personaggio che ovviamente ha avuto molto longevo però è nato nel 18 e morto nel mi ricordo nel 2012 se ben ricordo quindi effettivamente è molto molto longevo e per il resto per il resto sicuramente si è saputo costruire è normale che se andate a vedere le foto di Scalfaro praticamente quando era giovane lo vedete con un'area forse un po' più aggressiva rispetto ovviamente a Scalfaro anziano ma quasi sempre così ragazzi guardate che bella questa inquadratura veramente stupenda è un titolo veramente bello ragazzi ve lo consiglio veramente mi ha affascinato fin da subito l'avevo giocato su Playstation 2 ho recuperato ho recuperato la versione PC da poco ed effettivamente rimango a bocca aperta Saturno ha gli anelli perché ha un suo satellite troppo vicino al pianeta si sgretolò si praticamente per questo momento praticamente un suo satellite tipo la luna per la terra si era troppo vicino andò ai mille pezzi però per una questione di attrazione gravitazionale i suoi resti sono ovviamente tutti intorno e beh molto bella ovviamente la storia dell'astronomia antica e moderna oltretutto mentre invece appunto la storia dell'astronomia antica è molto legata anche all'astrologia ma quasi quasi in tutti i paesi tranne in Cina perché già nella Cina antica praticamente avevano differenziato astronomia da astrologia infatti c'erano due scuole all'interno del palazzo imperiale perché astronomia e astrologia potevano essere fatti solamente nell'interno del palazzo reale e chi le praticava fuori veniva ucciso praticamente c'era la pena di morte pensate un pochettino che c'era una scuola di astronomia interno al palazzo reale e di astrologia all'interno che ragazzi quella macchina distrutta e di astrologia all'interno del palazzo reale e quindi a volte c'erano proprio delle critiche tra gli astronomi e gli astrologi tra di loro si facevano la battaglia anche per questioni di potere ovviamente di fondi che poi dopo sarebbero dovute andare al regno anche perché voi sapete l'astronomia nasce in primis per capire ovviamente non quelle che sono le feste religiose ma per questioni agricole e per questioni di navigazione quindi anche commerciali mentre l'astrologia si lega in primis alla divinazione alla divinazione futura o all'ipotetico ovviamente l'ipotetico ovviamente come si chiama destino di una persona ma il Vaticano ripudia l'astronomia ma in realtà il Vaticano caro Manux Network è un istituto religioso che si è contraddetto più volte nel senso che dovrebbe ripudiare l'astrologia sicuramente in realtà questa cosa poi cambia nel tempo oltretutto pensa che ci sono stati tanti sacerdoti i sacerdoti sono i primi a studiare l'astronomia tu dici giocherellone ma cosa sta dicendo l'astronomia viene studiata all'inizio dai sacerdoti sì perché i sacerdoti erano coloro che erano addetti allo studio del Ciro questo perché perché la maggior parte delle dignità è di tipo celeste che cosa vuol dire celeste legato ai corpi celesti per esempio il dio Yahweh il dio ebraico cristiano cattolico e allo stesso tempo islamico che si chiama in realtà Allah nella versione islamica non è altro che un dio solare quindi si associa alla manifestazione del sole mentre invece che dirti ci sono le divinità lunari per esempio le divinità greche lunari ma addirittura in Giappone per esempio nello scintoismo c'è la divinità maschile lunare ovvero Susano Susano che se ovviamente è giocato a Okami viene riportato anche in Okami oltretutto per esempio pensa ad Amaterasu Amaterasu che è la divinità solare dello scintoismo quindi vedi che la maggior parte delle divinità sono create attraverso l'osservazione degli avvenimenti celesti ovviamente ci sono anche divinità di tipo naturale o divinità legate agli elementi per esempio la sirena Partenope che è stata la prima divinità della città di Partenope ovvero dell'antica Napoli non era altro che una divinità minore o addirittura era una una donna uccello poi trasformata in donna sirena nel medioevo perché la donna viene relegata a quelle che sono le insidie della natura ovvero le insidie della natura secondo l'antica filosofia esistevano nel mare quindi la sirena Partenope passa da donna uccello a donna pesce quindi infatti se vai a vedere praticamente la fontana della sirena a Napoli che si trova praticamente nel quartiere di San Ferdinand ovvero a Mergellina potrai vedere che la sirena Partenope è rappresentata come donna pesce mentre invece in altre rappresentazioni cittadine la sirena Partenope è rappresentata come donna uccello simile all'arpia ma l'arpia è negativa mentre la sirena non è negativa oltretutto l'immagine della sirena se andate a leggere praticamente uno dei seguiti di Devilman ovvero Amon l'immagine della sirena in Amon è ben specificata in realtà la sirena dal colore sicuramente candido bianco non è altro che ovviamente un vabbè in Amon viene classificata come demone perché in Amon c'è tutto un legame con la mitologia ebraica però in realtà è candida come ovviamente diciamo comportamento quindi ma i resti di materia potrebbero riformare una nuova luna con il passare del tempo sicuramente Gasminson non lo so bisogna vedere ovviamente anche da quelle che sono i comportamenti proprio della materia a livello ovviamente fisico-chimico calati ovviamente nell'ambiente ovviamente astronomico va bene ragazzi continuiamo ovviamente il nostro rally ci siamo visti veramente qui di tutto e di più ovviamente continuiamo vedete ragazzi un gioco veramente molto bello guardate le mani che applaudono sono meglio le mani che applaudono o le mani che pregano quasi sempre sono meglio le mani che ovviamente aiutano e beh ragazzi dobbiamo dire la verità quindi meno preghiere e più fatti preghiamo di meno e facciamo più fatti e vabbè voi sapete non voglio attaccare ovviamente qualcuno che ovviamente fa le preghierelle le preghierelle va bene ragazzi ovviamente non è nessuno dei presenti ci mancherebbe va bene ragazzi stiamo ovviamente giocando guardate qua guardate la marmittona volessimo farci praticamente il gioco praticamente in prima persona facciamocelo praticamente in prima persona sempre che ovviamente non ci sia un bug ragazzi vi faccio vedere in prima persona quasi fa vomitare il gioco ve lo dico in questo caso in prima persona secondo me dovrebbe essere giocato con un volante quindi vi consiglio sicuramente di giocarlo praticamente con un volante perché ragazzi è veramente difficile perché in prima persona come potete vedere giochiamo ad un'altezza molto molto bassa ragazzi dobbiamo andare praticamente qui sopra veramente guardate i particolari addirittura si vede praticamente il cordolo il piccolo cordolo che separa la strada da una parte che potremmo chiamare vabbè in realtà non è un marciapiede una parte pedonale mamma mia ragazzi veramente che cosa sta succedendo che cosa è successo ragazzi sono stato portato via nemmeno Babbo Natale mi portava via sul suo carretto quando ero piccolo praticamente il carretto di Babbo Natale ragazzi ve lo ricordate alla scoperta alla scoperta di Babbo Natale ragazzi cercate questa canzone di Cristina D'Avena alla scoperta di Babbo Natale la canzone che ovviamente adora anche Alessandro Arcangeli perché ragazzi adora Alessandro Arcangeli alla scoperta di Babbo Natale perché quando era piccolo guardava sempre quel carton animato e gli piaceva gli piaceva perché aspettava Babbo Natale bisogna curare pure lo spirito cosa che l'uomo moderno ha perso quasi totalmente impegnato come a soddisfare le situazioni fisiche e spirituali in realtà sull'ambito spirituale ti dico questo Gasmizzone lo so che tu ovviamente da nativo taurino sei fortemente legato anche a quelle credenze di tipo praticamente religioso però ti dico questo in realtà io non credo allo spirito all'anima però su un piano ovviamente morale ed etico sono ovviamente d'accordo con te nel senso che bisogna abbandonare i vizi anche corporali per esempio un eccesso di sonno un eccesso di cibo un eccesso anche sessuale ovviamente veramente ragazzi veniamo bombardati da elementi sessuali a tutta forza che poi ovviamente ci portano a mangiare a mangiare come dei porcellini praticamente soprattutto se siamo maschi e beh ragazzi ci vuole la giusta misura non dico che ovviamente dobbiamo abbandonare totalmente come spesso alcuni santoni dicono di fare a maggior parte questi santoni però sono persone anziane è bello fare ovviamente la persona casta in etanziana quando ovviamente il corpo non necessita più del rapporto sessuale non necessita più del rapporto ovviamente di un'alta alimentazione e questo è molto facile mi ricordo c'era un tra virgolette un santone di Messina praticamente era di Messina se ben ricordo non mi ricordo era siciliano forse Gasmin non lo conosce il famoso Salvatore Palladino e ha detto tante cose interessanti Salvatore Palladino soprattutto sull'alimentazione a base vegetale sulle cure naturali sull'uso anche dell'argilla per curare praticamente le scoriazioni le ferite le bruciature però dobbiamo dire la verità sul piano ovviamente carnale e si ragionava da vecchietto tutto segno del carricorno quindi segno sicuramente anche dell'abbandono dei vizi praticamente forse l'unico segno più virile sotto questo aspetto la fronte vista del segno di terra è proprio il toro cioè il segno di Gasmison e quindi dobbiamo dire la verità diceva di non dover avere praticamente rapporti sessuali di non dover andare praticamente con le donne e ovviamente è molto facile in età anziana dire una cosa del genere perché l'apparato genitale non funziona più e quando l'apparato genitale non funziona più per l'appropriazione è molto facile dire giovani non andate con le donne oppure non fate per esempio il sesso anale e beh ragazzi è molto molto facile queste cose qua mi ricordo c'era una dottoressa che diceva il sesso praticamente anale è un sesso praticamente non naturale ma in realtà non è vero perché in natura ci sono tanti animali che praticamente praticano il sesso anale così come in natura esiste l'omosessualità e la bisessualità ma si pensare che praticamente i lupi i lupi all'interno praticamente del branco i lupi ovviamente beta cioè coloro che non sono i lupi alfa si vanno ad accoppiare quando non ci sono le femmine tra di loro e quindi ragazzi dobbiamo anche capire questa cosa qua ma stessa cosa accade praticamente con le femmine in un gruppo di femmine le femmine si accoppiano tra di loro perché questo? perché devono soddisfare i loro bisogni sessuali quindi ragazzi dobbiamo dire la verità siamo attenti ovviamente a questi medici anche perché io approfondì su questa dottoressa che diceva queste cose diceva contro natura contro natura contro natura contro forse contro la procreazione naturale ma non contro la natura sessuale perché in natura l'omosessualità la bisessualità sono sono frequenti quindi questo per farvi capire oltretutto ci sono alcuni animali che hanno il doppio apparato genitale sia quello maschile che quello femminile quindi attenzione su questo ragazzi quindi state attenti io feci praticamente degli approfondimenti su questa praticamente su questa dottoressa e vedi praticamente che in realtà questa dottoressa era fortemente cattolica era una dottoressa fortemente cattolica e quindi è normale che tirava acqua al suo mulino oltretutto sapete faceva parte mi sembra azione cattolica aveva chissà quali incarichi da qualche ospedale ovviamente cattolico quindi approfondite sempre ragazzi chi c'è dietro ovviamente a queste persone quindi state attenti la stessa cosa per esempio mi ricordo c'era un famoso scienziato di cui non voglio fare i nomi perché non vorrei poi dopo andare in una forma di diffamazione diceva parlava dell'esistenza di Dio esiste Dio esiste Dio ma esiste Dio perché la chiesa cattolica ovviamente ti finanzia le ricerche per questo tu vai a dire in televisione esiste Dio capito quindi due pesi e due misure ce lo faceva per sua comunità omosessuale come rapporto amoroso emotivo e non l'atto sessuale crudo e chiuso beh in realtà c'è anche l'omosessualità fisica ovvero soprattutto in natura negli altri animali c'è un'omosessualità fisica non è che il lupo trova emotività nell'altro lupo maschio si accoppia con quello perché lo vede sottomesso e quindi il lupo beta si va ovviamente il lupo non non ovviamente non il capobranco si va a copiare praticamente con l'altro lupo perché non ci sono le femmine e beh la stessa cosa accadeva negli spartani gli spartani sono stati uno dei pochi eserciti che nella storia dell'umanità non si portava dietro un gruppo di prostitute quando andava a fare le battaglie e infatti gli spartani facevano tra di loro cioè i soldati spartani avevano rapporti omosessuali tra di loro e quindi e quindi si può dire che oltretutto avevano la moglie a casa quindi era proprio una cosa naturale andare sia con l'uomo che nella donna nell'antica Grecia nell'antica Grecia ma in tanti altri diciamo posti anche in Arabia era una cosa naturale pensate che addirittura molti praticamente molti regnanti molti imperatori avevano sia praticamente un gruppo di mogli un gruppo di prostitute di alto livello e un gruppo di praticamente uomini omosessuali quindi pensate un pochettino cosa ne pensi del senso di colpa siamo sicuri che nasce dal contesto sociale oppure qualcosa che è dentro di noi nel nostro DNA ma in realtà il senso di colpa è quando ovviamente noi vorremmo fare una cosa ma in realtà ne facciamo un'altra e quindi nasce il senso di colpa per esempio ieri sera mi sono allenato se non mi fosse allenato abituato ad allenarmi e vedendo l'allenamento vabbè ragazzi comunque questo gioco ha una grafica spettacolare non ovviamente se non mi fosse allenato oggi avrei avuto il senso di colpa per ieri è come quando per esempio tu dici mangi troppo ho il senso di colpa per aver mangiato troppo oppure metti conto non voglio avere rapporti sessuali sia da solo che ovviamente con una compagna con un'altra persona diciamo non voglio ovviamente diciamo escludere nessuna persona che ovviamente possa seguire il mio canale che sia omosessuale bisessuale o transessuale e quindi ovviamente ovviamente poi dopo non li vuoi avere i rapporti sessuali e poi hai rapporti sessuali e quindi ovviamente ti senti in colpa per averli avuti ma perché ti senti in colpa perché ti eri prefissato di non volerli avere quindi di non volevi fare una cosa e poi hai fatto un'altra cosa ma perché noi uomini abbiamo sviluppato un senso di conoscenza che gli animali non hanno e non sono consapevole al 100% di quello che fanno allora caro Manox Network in realtà abbiamo un cervello più sviluppato non so non so ovviamente se gli animali non hanno coscienza di quello che fanno in realtà in realtà su questo ovviamente dovremmo prendere il cervello di ogni animale e vedere durante la loro vita che ovviamente che comportamenti hanno anche su una base ovviamente di analisi fisico-chimica non lo so non lo so se il cane è consapevole di esistere e di quello che fa io a volte vedo gli sguardi di alcuni cani e li trovo più intelligenti degli esseri umani quindi come si dice gli occhi poi dopo sono direttamente collegati al cervello ovviamente dell'animale e quindi alla fin fine se tu guardi proprio gli occhi di alcuni cani e questi cani ti guardano ti sembra quasi che il cane sia più intelligente di te ecco qua quindi oppure più intelligente di altre persone quindi in realtà non possiamo sapere se quegli animali non hanno una coscienza sviluppata potrebbero avere una coscienza forse più elementare nel senso che non se ne fregano di tante cose è meglio un cane amico che un amico cane caro Manux Network diceva Socrate più conosco gli esseri umani e più amo il mio cane e va bene ragazzi guardate qua ragazzi guardate la grafica veramente assurda di questo titolo cioè è veramente bellissimo cioè io non lo so un gioco così vecchio guardate come gira io vi ripeto ragazzi non buttate i soldi in tanti prodotti anche moderni solamente perché l'auto nuova il percorso nuovo cioè giocate titoli vecchi sui nuovi computer ragazzi o sulle nuove piattaforme li potete cioè rinascono proprio questi titoli il più belletto popolare che c'è è caro Gas ma tu sei anche taurino e quindi ovviamente sei fortemente legato alla natura ragazzi continuiamo ovviamente la nostra gara perché veramente è un titolo eccezionale davvero guardate qua che grafica veramente assurda io vi ripeto giocate questo gioco perché ragazzi è veramente bellissimo è veramente bellissimo giocatelo perché ne vale veramente la pena qui andiamo praticamente sempre in nostra area a Rockingham praticamente vedete un pochettino la Mitsubishi Lancer che praticamente dovrebbe essere l'ultimo che parte ovviamente andiamo a premere avanti e vediamo un pochettino vorrei cambiare anche macchina adesso vado a giocare praticamente con la macchina in terza persona quindi vado a vedere praticamente l'autovettura da dietro guardate qua ovviamente al tramonto veramente bellissimo è un gioco ripeto che oltretutto per la sua maneggevolezza può essere giocato anche praticamente anche praticamente mentre si chiacchiera vedete ragazzi sto praticamente chiacchierando non è molto difficile rispetto anche agli altri Colli McRae non sappiamo se ovviamente il Gas Mizzone l'aveva praticamente già giocato questo titolo però vi posso assicurare ragazzi che è un gioco veramente molto bello su questo caso forse il Dottor Zombie Z1 ci potrebbe dare delle indicazioni nel senso che effettivamente qui l'utilizzo praticamente del cambio praticamente manuale potrebbe fare la differenza perché non vado sicuramente a toccare vedete ragazzi qui ho stoccato praticamente il cambio il cambio praticamente il tiro e il freno a mano ma non vado proprio a toccare attraverso ovviamente il fatto di andare a scalare con ovviamente con le marce non vado proprio a toccare nessun tipologia di freno abbiamo praticamente quindi due freni attenzione ragazzi perché qui è veramente un taglio praticamente immediatamente dobbiamo cercare di fare questi tacchetti per uscire come nella letteratura se ci soffermano agli autori moderni le nostre conoscenze rimangono limitate bisogna conoscere gli autori antichi che dici bene per capire meglio la nostra società carissimo gasmizo noi viviamo in una società marcia viviamo in una società marcia piena di cibo inutile cibo spazzatura anche spesso il cibo vegano è in sovrabbondanza ragazzi veramente e allo stesso tempo bombardamento sessuale dalla mattina alla sera si sono persi ovviamente i contatti fisici non c'è ovviamente più un'etica una morale cosa che almeno prima c'era si vive meglio adesso e si vive meglio prima ma ragazzi bisogna capire come secondo me sfruttare sfruttare ovviamente le occasioni della vita nel senso che se io vado a leggere la storia di Roma o la storia dell'antica Grecia in realtà vedo che in realtà anche a quei tempi c'erano le schifezze quindi in realtà credo che in realtà forse erano solamente il numero minore gli abitanti della terra e quindi si facevano meno schifezze però in realtà forse si facevano anche alcune schifezze peggiori nel senso che c'era anche una forte tirannia c'era anche una una forte ovviamente una forte barbaria se vi andate a leggere praticamente le storie degli imperatori romani veramente rimanete sconvolti per quello che a volte facevano quindi devo dirvi la verità per quanto mi riguarda in realtà viviamo in un'epoca praticamente mamma mia in un'epoca ovviamente forse più pacifica però da un punto di vista morale siamo un po' più bassi però questa moralità in realtà è sballata nel senso che gli antichi dittatori gli antichi imperatori praticamente avevano una moralità ancora più sballata nella maggior parte dei casi quindi mamma mia ragazzi qui volano pezzi di terra la macchina si sta veramente distruggendo attenzione a questo alberero ragazzi questo 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 percorso è strapieno veramente di dossi ragazzi immaginate ovviamente il pilota dopo aver ovviamente guidato qui per tutto il giorno come ovviamente si può trattenere un gioco veramente molto veloce non tanto devo dire la verità nella sua la sua visuale in terza persona ma poi diventa praticamente velocissimo nella visuale praticamente vedete ragazzi qui sopra in terza persona le visuali sono praticamente solamente due sono praticamente solamente due guardate qui sopra com'è bella ragazzi la grafica veramente qualcosa di stupendo oltretutto siamo ancora sul percorso spagnolo se ben ricordo quindi vedete praticamente queste ambientazioni molto molto particolari un titolo veramente bellissimo che vi consiglio sicuramente di giocare se volete affascinare praticamente chi guarda il gioco potete sicuramente affascinarlo ragazzi vado qui col frino praticamente la giocavità mi sembra molto fluida si è veramente bello ti dico questo allora Collime Crearelli 1 è un titolo veramente bello il 2 è migliore dell'1 ma il 3 eccezionale non vedo l'ora di portarvi a vedere Collime Crearelli 4 ovviamente anche gli altri titoli della serie Collime Creare in realtà Collime Creare quando more caro Manux viene cambiato il gioco quindi non si chiama Collime Crearelli ma si chiama praticamente Dirtrelli ecco qua Dirtrelli quindi più o meno vedremo ovviamente vari titoli in realtà io avevo iniziato anche la serie di Need for Speed mi sono bloccato sulla serie Need for Speed perché non riuscivo praticamente a far partire alcuni titoli di Need for Speed poi ovviamente cercherò di recuperarli ma se vedo dei bambini nei posti più poveri del mondo sorridere e danzare nonostante non abbiano quasi nulla e li confrontiamo con i nostri di bambini si capisce che il mondo occidentale ha serie problemi esistenziali più che economici sì bravissimo hai detto tutto in realtà la felicità si trova proprio nelle piccole cose e che a volte una persona più ha e più si disperde quindi per esempio invece di andarsi a fare una bella passeggiata e di parlare con le persone si chiude in casa e si bombarda veramente di film televisioni video cibo pornografia e quindi ovviamente litigate a volte con i familiari se vive da solo oppure momenti di depressione chiedo scusa litigate con i familiari se vive in famiglia oppure depressioni se vive da solo quindi effettivamente a volte la cosa più importante è sempre il contatto con la natura quindi uscire stare vicino al mare vicino al bosco vicino alla montagna uscite guardate le persone sicuramente anche con degli occhi ovviamente di tutela nei vostri confronti ovvero cercate ovviamente sicuramente non è che trovate una persona e dite andiamoci a fare una passeggiata perché sicuramente quella persona potrebbe avere delle cattive intenzioni però sicuramente sicuramente bisogna vivere secondo me seguendo la natura una bella passeggiata a Mergellina bravissimo Manus una bella passeggiata a Mergellina non so se me la faccio oggi o se me la faccio domani sicuramente tra una quarto d'ora venti minuti chiudo questa live perché poi ovviamente non voglio diciamo veramente stressarvi anzi visto che manca solamente un quarto d'ora ragazzi facciamoci così non voglio voglio uscire praticamente dal rally sei sicuro di voler uscire se voglio uscire vi voglio far vedere anche le altre auto perché altrimenti ragazzi uno dice caro giochieri non ci stai facendo vedere solo lo saffordo focus guardiamo c'è anche una mitica fiat punto ragazzi una mitica fiat punto e andiamo qui nel Regno Unito quindi ci facciamo ovviamente questo primo percorso vi faccio vedere praticamente alcuni percorsi ovviamente differenti e poi ovviamente traiamo le conclusioni anche se ovviamente avete capito che questo titolo vedete ragazzi è veramente un giocone questa qua io voi sapete la mia macchina è una fiat punto questa è una fiat punto da rally praticamente vedete ragazzi è veramente bellissima certo non è molto potente non è molto potente però diciamo per quello che offre ha una grandissima effettivamente maneggevolezza ed effettivamente la fiat punto ha una macchina molto molto maneggevole non volevo pigliare il cartellino vedete ragazzi molto molto bella la varietà proprio delle ambientazioni andiamo qui su mamma mia ragazzi guardate come fugge praticamente l'auto pensate che non sto nemmeno accelerando praticamente al massimo molto molto divertente ripeto grandissima ah ragazzi varietà di gioco guardate quanto è piccola la fiat punto è piccolina come macchina rispetto sicuramente alle altre macchine però ragazzi dobbiamo dire la verità è qualcosa di sicuramente molto molto bello soprattutto per chi come me ha praticato che cosa devo fare ah ragazzi devo andare praticamente qui dentro questo ovviamente piccolo percorso molto veloce guardate il bosco mamma mia ragazzi questo bosco devo farvelo vedere praticamente in prima persona guardate l'ambientazione ragazzi è veramente bello è veramente bello ho quasi paura ovviamente di non sapere dove poter andare nel senso che posso veramente capottarmi vedete ragazzi che cosa succede qui sopra mamma mia ragazzi è veramente un titolo fenomenale fenomenale sono stati molto bravi i programmatori della godemaster proprio a dare l'impressione non solo del gioco di rally secondo me ma proprio del gioco di avventura nel senso che mi sembra proprio guardate qui sopra non ne parliamo vedete il contatto con la natura anche virtuale nel senso che vi viene proprio voglia di andare praticamente in un bel boschetto a farvi ovviamente una passeggiata e beh è bello il bosco di capodimonte beh in realtà il bosco di capodimonte caro manux il bosco di capodimonte è un bosco un po' diverso nel senso un bosco reale quindi in realtà non è un bosco ovviamente selvaggio come quello là dove siamo passati è un bosco praticamente a cui viene fatta una manutenzione praticamente costante e in parte si va contro la natura perché ovviamente gli alberi crescono in maniera ovviamente condizionata ragazzi guardate la macchina come si sporca io ripeto ragazzi per quanto riguarda il voto di questo titolo il voto è 10 perché sicuramente non è possibile dare a un titolo del genere un voto inferiore e sicuramente lo potete ovviamente notare praticamente io ieri sera infatti ho fatto una prova di streaming e un titolo divertentissimo un titolo veramente divertentissimo ma soprattutto vario vario anche ovviamente in primis e nei percorsi ma che ovviamente nelle auto guardate qui sopra addirittura hanno inserito i piloti oltretutto gira in cima alla serie ragazzi ci fate tutto e buttano le botti e chicche di sigarette no il bosco di capodimonte no il bosco di capodimonte no perché ovviamente il bosco di capodimonte è chiuso la sera quindi non è vera questa cosa nel senso che forse lo possono fare nel pomeriggio però ci sono i custodi è molto sorvegliato anzi se tu vai nel bosco di capodimonte puoi vedere che effettivamente è uno dei luoghi più puliti di Napoli in realtà quello che ovviamente di cui parli forse parlavi di un altro bosco praticamente di Napoli ma in realtà il bosco di cui parli ovviamente dove andavano spesso anche le coppiette a fare le loro cose e praticamente è chiuso da tanti anni che è di qua che è di qua ah oh e quindi mamma mia ragazzi guardate ovviamente la parte della strada praticamente ci stiamo facendo proprio un vero e proprio percorso guardate la velocità ragazzi del gioco oh mamma mia e beh signori dobbiamo dire sono un po' ti sei confuso con un altro bosco che ti ripeto è un bosco reale nel senso il bosco del vecchio palazzo reale di capodimonte e quindi è tutelato dalla soprintendenza state bene archeologici pasagistici corse architettonici di Napoli praticamente quindi è proprio tutelato pensa che noi prendiamo i soldi i fondi non solo dal comune di Napoli ma prendiamo proprio i fondi dalla soprintendenza quindi anzi vattelo a vedere ragazzi guardate qua ci dice di andare in slow mamma mia signori è un gioco veramente fenomenale provatelo questo gioco ragazzi ha una varietà di ambientazione ma soprattutto una bellezza nell'essere proprio giocato i boschi vuoti commerciali di pieni questa è la nostra triste realtà eh sì in realtà invece guarda come sono belle queste ambientazioni guarda anche questo punticello realizzato in pietra con queste praticamente caratteristiche strutture ragazzi dobbiamo vederci il replay di questo gioco sì gio gio ecco qua gio gio ragazzi guardiamoci il replay perché secondo me ne vale la pena guardate la grafica mamma mia ragazzi è proprio pulita certo in questo caso i programmatori della Codemaster hanno inserito praticamente eh hanno inserito praticamente delle eh delle immagini praticamente bitmap come ovviamente spettatori in mano agli extracomunitari coloro negozi allora il centro di Napoli in realtà il centro storico di Napoli eh ai quartieri spagnoli i quartieri spagnoli erano i luoghi dove albergavano durante il viceregno del durante il regno del vicere spagnolo eh albergavano i soldati del spagnoli e quindi ovviamente era un luogo malfamato perché ovviamente c'erano i soldati militari ed era un luogo dove c'erano un sacco di prostitute a basso costo e quindi e quindi ovviamente conserva quella struttura di basso nel senso di luogo dove appunto c'erano le tende pensa un pochettino dei soldati e quindi non c'erano e quindi su quello ovviamente si è conformata poi dopo l'urbanistica degli anni successivi del dei quartieri praticamente spagnoli quindi ci sono ancora questi bassi molto caratteristici praticamente al pian terreno tu accedi direttamente alla casa infatti quando c'è una pioggia un pochettino particolare qui i bassi si allagano perché ovviamente non c'è una un piano leggermente rialzato un piano ammezzato che non permetta ovviamente di far entrare l'acqua o addirittura gli animali scarafaggi topi quindi sugli topi ovviamente un po' di meno ma sicuramente gli scarafaggi le blatte possono entrare quindi conserva questa diciamo struttura primordiale legata a quei tempi e ovviamente spesso la malavita si annida praticamente lì dentro perché sono strutture difficilmente controllabili ovviamente poi ci sono le periferie tipo per esempio un po' sicuramente Ponticelli è stata per tanti anni a rischio il quartiere di Scampia che sono proprio dei luoghi periferici al centro di Napoli quindi ci sono sicuramente dei luoghi dei luoghi diciamo maggiormente pericolosi io vivo nel quartiere di Fioriglotta che è un quartiere abbastanza calmo su questo punto di vista le famose blatte si blatte dappertutto anche se in realtà sono alcuni anni che in realtà non le vedo questo perché caro Manux in realtà si è stata fatta proprio una campagna di disinfestazione da parte dell'amministrazione dei magistris devo dire a sindaco che spesso viene criticato io l'ho sempre adorato lo vedo molto partecipi oltretutto è sempre pronto a mettere mano al portafoglio quando si tratta di interventi sicuramente igienici e quindi anche a volte presente durante gli interventi igienici molti dicono vabbè il sindaco fa propaganda politica e vabbè ma il sindaco che deve fare deve stare sul territorio oppure che fa manda le persone in realtà devo dire la verità il sindaco farà sicuramente anche propaganda politica però in realtà fa anche il suo dovere quindi questo sindaco che spesso viene criticato in realtà io non lo vado a criticare certo forse ha avuto una eccessiva apertura mentale verso nei confronti degli extracomunitari e forse questa è l'unica critica che gli posso fare però per il resto è sempre stato presente alcuni quartieri popolari sembrano fatti apposta per creare malavita chissà cosa pensavano gli architetti quando hanno fatto le famose vele ma in realtà le vele nascono da un progetto americano di successo perché in America quel tipo di manufatto architettonico ha avuto successo il cosiddetto mall che presentava sia elementi residenziali che elementi commerciali e sono progetti che trovi in versione molto più contenuta anche in Giappone e funzionano è normale che sono strutture fatte per il popolo non è fatto sicuramente per una persona agiata che quasi sempre ha una villetta ha una villetta anche direttamente all'interno della città se tu vai per esempio nelle zone di Posillipo trovi tante ville che vengono gestite da un'unica famiglia e quindi ovviamente sono abitazioni fatte per il popolo per il popolo ovviamente povero che in America hanno funzionato in Giappone hanno funzionato sebbene in versione estremamente ridotta in Italia non hanno funzionato perché sono state calate su un territorio su un territorio praticamente dove c'era un forte spaccio di droga si è infiltratata eh vedi Manux ovviamente capisce recepisce quello che è ovviamente il concetto nel senso che nelle vele si è infiltrata la criminalità perché in quella zona praticamente di Scampia c'era c'era praticamente un forte smercio di droga va bene ragazzi in questo punto voglio prendermi la Mitsubishi Lancer Evo 7 a questo punto a Terno una macchina potente a una macchina a una macchina ovviamente meno potente addirittura qui andiamo praticamente in Grecia dove addirittura il campionato fu pubblicizzato in quegli anni dalla mitica dalla mitica Spike la Spike è un'altra casa praticamente mi sembra videoludica pensate un pochettino in Grecia ovviamente uno dei primi stati a livello proprio mondiale nella storia dell'umanità a regolamentare la prostituzione quindi si passa si può dire dalla prostituzione sacra dei tempi esercitata dalle sacerdotesse alla prostituzione commerciale regolamentata dallo Stato il grande solone il grande politico solone nonché uno dei sette saggi uno dei sette saggi antichi della Grecia regolamento la prostituzione per fare in modo che ovviamente il giovane non andasse a dare fastidio alle donne sposate perché nell'antica Grecia ci si sposava intorno ai 30 anni quindi ovviamente c'era tutto un periodo in cui il giovanotto poteva ovviamente andare a dare fastidio ovviamente alle donne sposate nonché per permettere a quelle donne che non si sposavano di lavorare in maniera anche ricca infatti c'erano le etere praticamente le etere erano delle prostitute di alto livello pensate un etere riusciva a guadagnare in una giornata lo stipendio di un mensile di un operaio pensate un pochettino o addirittura in un interagionato anche il doppio dello stipendio mensile di un operaio quindi immaginate ovviamente in 20 giorni in 25 giorni di lavoro che cosa potremmo riuscire a fare mamma mia ragazzi andate a approfondire sicuramente questo ovviamente questi argomenti perché fanno parte della storia umana e fanno parte anche della storia di alcuni territori di oggi che nel bene e nel male riescono a resistere anche a un mondo fortemente dove praticamente i ricchi sono sempre di meno e i poveri sono sempre di più e quindi per esempio la Spagna la Grecia la Germania l'Austria la Svizzera dove la prostituzione praticamente è regolamentata e quindi non è più in mano alla malavita purtroppo in Italia è in mano alla malavita ma è in mano alla malavita anche in Giappone attraverso ovviamente la Yakuza che gestisce proprio a volte l'entrata delle prostitute che nella maggior parte dei casi non sono giapponesi le prostitute ovviamente di basso livello ma sono ma sono praticamente filippine sono praticamente cinesi passano gli anni e ma inizia il virtù degli uomini restano caro Manux si è fatto così passano gli anni le basi umane sono praticamente sempre quelle perché forse già nell'antica Grecia si era arrivato praticamente ad alti livelli già nell'antica Grecia si era arrivato ad alti livelli di etiche e di morale dobbiamo dire la verità anche se ovviamente l'antica Grecia ha avuto degli alti e bassi ovviamente c'è anche un passaggio dal matriarcato al patriarcato c'è un passaggio proprio a un forte patriarcato dove appunto la donna pensate un pochettino il marito era praticamente padrone dei figli praticamente era padrone praticamente dei figli e addirittura della moglie poteva disporre addirittura vendere al mercato moglie e praticamente figli quindi ragazzi stiamo parlando sicuramente di altri tempi anche da noi un giapponese è disegnato quartiere di librino ma comunque la gestione del territorio diventa complesso vabbè complesso entere famiglie coqualizzate e altri che vivono in totale omertà che io non mi permetto di giudicare perché conosco certe realtà ci vuole veramente l'esercito e bene adesso dovrà entrare in quegli edifici si si crea praticamente una città una roccaforte nella città si crea proprio una roccaforte nella città ed effettivamente è così hai descritto bene ovviamente il fenomeno in tipo praticamente urbano che appunto a volte attraverso questi modelli architettonici che in realtà ecco qua è aperto praticamente è aperto un argomento molto a me caro che io ho affrontato in tanti anni di professione architettonica nonché proprio da geometra prima di essere architetto ovvero il fatto di dover conoscere il territorio di dover andare sul territorio quindi una persona che non conosce il territorio secondo me non può fare il tecnico non può fare il direttore dei lavori non può fare il progettista non può fare il coordinatore per la sicurezza non può fare il collaudatore cioè non può rivestire nessuna carica tecnica secondo me il tecnico bisogna farlo sul campo nel senso che si tu vuoi fare tutto il virtuale che vuoi però poi dopo devi praticamente devi praticamente mamma mia ragazzi andiamo ah abbiamo ucciso le persone abbiamo ucciso ragazzi le persone molto molto triste questa parte qua e quindi il tecnico si fa sul campo Luca visto che che inferno non è chiuso e sì effettivamente si è scatenata una guerra questo perché in realtà le differenze razziali non calano ragazzi purtroppo i simili con i simili e questo ovviamente è un vecchio detto che purtroppo per quanto noi possiamo fare quello che è ovviamente il concetto di apertura mentale di dire ovviamente l'uomo ovviamente bianco con la donna di colore queste cose qua sì io ripeto io ho tanti amici ci sono tanti in questo caso sono anche operai che fanno dei lavori molto molto rudi che sono persone di colore sono persone ucraine spesso cioè che provengono da altre parti del mondo anche se hanno praticamente una pelle bianca come la mia in realtà sono sempre stato aperto anzi ho avuto forse ecco qua ho avuto un comportamento fortemente antirazzista nel senso che capivo la necessità del giovane che sicuramente veniva a lavorare ci sono state anche persone arroganti straniere devo dire la verità mi sono trovato mi sembra una volta nel 2008 e lo dico questo perché sono veramente passati 12 anni a lavorare praticamente con alcuni ucraini e uno di questi era una persona che voleva comandare voleva comandare nell'ambito tecnico e era un operaio e criticava i tecnici italiani è una cosa molto brutta mentre invece ovviamente l'altro compagno aveva un carattere nettamente praticamente nettamente più diciamo buono più cortese più ovviamente educato e quindi dipende come sempre dalla persona non dipende solamente dal colore della pelle non dipende ovviamente dal luogo di origine anche se come si dice si potrebbe dire che da un luogo particolare arrivano praticamente i criminali nel senso che se noi andiamo in un posto di qualsiasi parte del mondo dove i giovani i giovani gli adulti sono abituati a uccidersi è normale che se io li porto in Italia quella persona avrà un indole violenta e quindi è normale questa cosa qua quindi bisogna capire sempre sicuramente chi fare entrare e perché lo si fa entrare per il resto se tutti quanti lavoriamo io sono propenso sicuramente a far venire le persone che ovviamente per un motivo valido vogliono venire nel nostro paese tanti esercitano le professioni senza toccare per mano la realtà caro Manux si è capito bene diceva l'antico l'antico medico eppocrate che è stato forse uno dei primi medici nutrizionisti del mondo diceva tanti sono i medici per i titoli e pochi per i fatti in realtà potremmo dire tanti sono i professionisti per i titoli e pochi per i fatti quindi potremmo estendere questa visione di ipocrate praticamente legata alla professione medica anche ad altre professioni si devono fare entrare se gli si dà appunto lavoro e opportunità se non sfasci l'Italia si effettivamente non c'è lavoro per gli italiani figurati per gli extracomunitari però il problema sicuramente ovvero per gli stranieri non voglio parlare di extracomunitari solamente quindi effettivamente bisogna fare come in Giappone nel senso in Giappone se tu non hai un valido motivo per rimanere non puoi rimanere in Giappone oltre un certo periodo di tempo questo perché in Giappone voi sapete soprattutto città megalopoli come appunto Tokyo sono sovrappopolate e gli spazi per le persone sono veramente esigui e quindi è normale che i giapponesi adottino questa politica in realtà il Giappone è molto molto intelligente su questo nel senso che non dice non dice in realtà come si va a comportare ed è una cosa positiva è una cosa negativa beh è una cosa sicuramente positiva perché noi abbiamo un'immagine del Giappone come un paese sicuramente candido puro ma in realtà ovviamente anche nel Giappone c'è una forte malavita come appunto la malavita della Yakuza ragazzi guardate qui ovviamente la visione ovviamente del tracciato che proprio si estende a tutta forza ragazzi che cosa è successo che cosa sto facendo ragazzi sono partito di nuovo da qua praticamente quindi il gioco in realtà mi stacca ovviamente di percorso in percorso comunque ragazzi che dirvi di questo ovviamente con i Macrierelli volevo farvi dire anche le altre auto percorso veramente molto molto bello questo qua della Grecia e per il resto sicuramente è un prodotto di alto alto livello guardate ovviamente le ambientazioni guardate le nuvole come sono praticamente fatte bene guardate qui sopra ragazzi è veramente bello io ripeto voglio ringraziare sicuramente i programmatori della Codemaster che hanno creato un titolo così bello e soprattutto giocabile su piattaforme sicuramente su piattaforme addirittura il Giappone ti caccia pure se hai moglie e figli e si ha le state raccoglie il Giappone ti caccia perché devono tutelare il loro paese noi italiani diciamo ci siamo un po' ammorbiditi su questo c'è ovviamente una forte pressione che arriva alla politica da altri potenti a livello globale perché ovviamente questi potenti dicono gli italiani non vogliono più fare i lavori di un tempo si stanno ribellando non vogliono andare a raccogliere i pomodori per 3 euro all'ora e quindi però non è che noi veniamo facciamo venire l'extracomunitario e l'extracomunitario è stupido nel senso che dice io adesso vado a raccogliere i pomodori a 3 euro all'ora l'extracomunitario dice c'è qualche altro lavoro che possa fare che gli possa far diventare ricco e ovviamente quasi sempre viene ad occhiato dalla malavita quindi gli si mette la droga in mano o addirittura gli si mette la pistola in mano ragazzi andate a vedere quello che accade sicuramente ad alcuni inviati come appunto al Brumotti dove questi extracomunitari a volte nemmeno identificati vanno ad attaccare in una maniera estremamente violenta le persone comunque ragazzi che dirvi purtroppo non è che gli extracomunitari cioè gli stranieri sono praticamente sono stupidi anche loro si vogliono arricchire anche loro vogliono fare la bella vita che fanno gli italiani e quindi l'essere umano ha quelle basi di difetti e di pregi che sicuramente su una base sono praticamente uguali a tutti quanti poi bisogna capire le persone che cosa vanno ad alimentare nel senso che io posso scegliere ovviamente di seguire uno stile di vita anche per una parte della mia vita praticamente più etica e poi in altre parti della mia vita in altri periodi della mia vita posso andare praticamente a seguire uno stile più vizioso oggi dico che il più grosso problema è la corruzione del clientelismo la mafia locale solo dopo viene il problema dell'immigrazione sicuramente detto questo va limitato l'ingresso prima dobbiamo educare gli italiani perché è un popolo ignorante è un popolo che diciamo noi italiani ci siamo fortemente abbiamo perso proprio dei valori dei valori e non abbiamo diciamo un certo grado culturale rispetto anche ad altri paesi soprattutto per esempio in Giappone c'è proprio una cultura del non parlare del non parlare molto ovvero di parlare dicendo solamente quello che in realtà può interessare ragazzi voglio uscirmene voglio farvi vedere ovviamente un'altra macchina prima di chiudermi la live perché poi non voglio fare live di 28 minuti però il gioco ripeto è veramente molto molto bello ragazzi provatelo voglio prendermi la Puma praticamente guardate qua c'è appunto la Ford Puma cambia automatico questa volta ce ne andiamo nel USA praticamente caricamenti molto molto veloci e quindi ragazzi poi con internet le notizie dell'Italia arrivano immediatamente in Africa sì infatti anche bisogna capire mamma mia ragazzi guardate la Ford Puma com'è bella ragazzi guardate la marmittona che ovviamente gira a tutta forza grafica veramente pulitissima ragazzi guardate quanto è bella questa macchina è veramente bella guardate è anche molto veloce mamma mia quanto sei bella veramente bella anche con i coloni e quindi non so mi sembra che non si faccia più la Ford Puma vabbè sono passati tanti anni ma vabbè ragazzi comunque il gioco è veramente bello ripeto Gasmizo non so ovviamente cosa stia provando questo GOMZ1 sta dormendo forse in questo momento non sappiamo perché dorme perché forse non piglia i pesci non piglia i pesci a lui gli piace praticamente prendere il pesce e quindi ovviamente dorme attenzione ovviamente alle persone voi sapete che se andiamo a investire le persone usciamo fuori vedendo la situazione nel 2020 viene difficile credere che sia stato il rinascimento in Italia come siamo caduti in basso e beh e beh caro Gasmizo sì effettivamente effettivamente siamo arrivati a essere praticamente un popolo un popolo un pochettino di sbandati ecco di forti sbandati non è da implicare sicuramente all'immigrazione è da implicare proprio a un grado di cultura che è ceduto mamma mia direzione errata a un grado di cultura sicuramente ecco ragazzi sto andando nella direzione ancora errata fammi entrare praticamente da quest'altra parte qua vediamo un pochettino ah quindi ragazzi la direzione è questa ci sono alcuni fenomeni comunque sicuramente di ricreazione praticamente delle ambientazioni oh ragazzi no nel mare nel mare nel blu dipinto di blu vabbè ragazzi comunque il gioco è veramente bello il gioco volto sicuramente 10 la ford tigra la volevo comprare caro Ale Alessandro Arcangeli si sono caduto nel fiume ma non c'erano i pesci che ovviamente evita il dottor zombie da una e volevo dirvi questo ragazzi quando ero praticamente diciamo ventenne volevo comprare proprio la ford quindi la ford tigra praticamente altri tempi molto belli anche i nomi di queste macchine ma anche il design era molto molto accattivante eravamo la quarta potenza mondiale negli anni 80 Alessandro Arcangeli i tempi cambiano i tempi cambiano la cina che praticamente pensa ha avuto tantissimi tantissimi pregi nell'età antica poi è caduto ovviamente in una forte crisi economica e poi dopo si è ripresa oggi è una delle potenze più grandi a livello mondiale quindi come puoi vedere come si dice come dicevano i saggi antichi ragazzi come dicevano i saggi antichi niente dura per sempre quindi ogni grande impero è destinato a fallire e poi dopo tendenzialmente si creano nuovi grandi imperi ragazzi è la vita è la vita tutto nasce e tutto muore Opel Tigre ah Opel Tigre Alessandro Arcangeli hai ragione non era la ford non era la ford Tigra era l'Opel Tigre hai perfettamente ragione io ti dico questo perché avevo un Opel Corsa praticamente e volevo cambiare macchine quindi prendermi la Tigra che praticamente aveva solamente due posti a sedere se ben ricordo non so se c'era qualche versione praticamente con quattro posti a sedere praticamente a quattro posti ovvero a quattro anche portiere ma a quattro posti proprio mi sembra che era praticamente solamente a due posti quindi veramente la macchina per il single o per l'uomo ovviamente solamente fidanzato senza figli era il tempo in cui ovviamente ero fidanzato quindi la mia unica relazione serie che ho avuta e per il resto ragazzi e che dire Alessandro tipica macchina da donna la smart è una macchinina che però in realtà è una macchinina che in realtà possiamo anche usare in tanti contesti ma ragazzi qui guardate come mi trovo nella parte proprio finale del gioco sono andato ovviamente a perdere vediamo un pochettino se possiamo guardarci il replay perché mi piace questa macchina ragazzi guardiamoci ovviamente il replay vedete la velocità proprio del gioco guardate che grafico guardate che modellazione ragazzi guardate che modellazione questa macchina è veramente bello c'è un titolo è un titolo che è anche diciamo questo elemento in plastica che poi viene utilizzato anche sui cantieri è una rete di recensione in plastica e oltretutto costa un sacco di soldi a magli ovali indeformabili cioè difficilmente deformabile costa un sacco di soldi quando io vado a fare i computimetrici costa un sacco di soldi va bene le scampagnate del giocherellone le scampagne del giocherellone il giocherellone entra nei boschi ti fa vedere i boschi guarda qua ragazzi ragazzi guardate che grafica veramente assurda allora la macchina sicuramente è veramente ben modellata però i programmatori della Godemaster hanno dato anche un grande una grande enfasi alle alberature le alberature infatti se potete notare non sono più fatte con due elementi incrociati bidimensionali come accadeva nei precedenti colli meccerelli ma sono praticamente vedete hanno proprio degli elementi tridimensionali quindi veramente ragazzi un lavoro e guardate qua guardate qua mamma mia mio amico me la faceva guidare la tigra era da fidanzati sì l'opel tigra praticamente da fidanzati nei posti posteriori si stava scomodi è mio caro era la classica macchina del single io infatti all'epoca ero fidanzato e quindi me la volevo la volevo comprare ma costava un sacco di soldi costava un sacco di soldi non so quanto poi dopo consumasse ragazzi sto ritornando guardate qua guardate uno due il gasmizzone boom entro praticamente all'interno dell'acqua del fiume e ovviamente la mia macchina ovviamente è saltata guardate qui sopra come ovviamente è saltata qui gasmizzone si mette a ridere comunque ragazzi la grafica è veramente bella guardate qua come sto salendo praticamente sono alzate praticamente le due praticamente le due parti della carrozzeria che sono vicino alle ruote è diventata una macchina taurina praticamente una macchina cerbiatta sono diventato il cervo a primavera e tu rinascerai mamma mia ragazzi comunque la grafica è veramente spettacolare ripeto è bello da vedere ma soprattutto fluidissimo io spero ovviamente la live non perda tanto in qualità sto trasmettendo a 1080p però ragazzi vedete come sono fatti gli alberi sono fatti praticamente con degli elementi tridimensionali comunque ragazzi titolo fantastico cioè un amante dei giochi di auto non di rally dei giochi di auto impazzisce secondo me per questo titolo io ieri sera l'ho installato non riuscivo a prendere sonno e devo dire la verità sono mi sono trovato veramente bene guardate manux che riflette guardate alle corna la macchina cornuta praticamente la macchina del cornuto forse e il cornuto è sempre l'ultimo a sapere di essere cornuto come ovviamente diceva un vecchio detto popolare va bene ragazzi usciamocene praticamente e possiamo andare praticamente l'ultima facciamoci proprio l'ultima gara perché ovviamente poi dopo voglio staccare la live e ci vediamo poi dopo stasera con altri videogiochi sempre se ovviamente continuo a vivere ragazzi vabbè qui sempre con la ford puma volevo in realtà uscirmene proprio perché qui ovviamente è passato è passato a un altro percorso sempre con questa auto vi voglio far vedere anche le altre auto andiamo in percorsi un giocatore vedete ragazzi c'è ovviamente la subaro imprezza però voglio la subaro imprezza già l'abbiamo presa negli altri titoli vediamoci l'MGZR rally car automatico e questa volta ce ne andiamo in Giappone ragazzi avete visto abbiamo parlato praticamente del Giappone un percorso molto particolare guardate qua andiamo a Shinshushinmachi è bello perché sono rimasti fedeli ai primi titoli migliorando soprattutto la grafica si è molto molto bello guarda questa macchina dell'MG praticamente della macchina scatolare la macchina la macchina ovviamente ha ovetto kinder te lo ricordo nella smizione ovviamente i vari ovetti kinder di quando eravamo piccoli che poi in realtà chissà quanti batteri avevano perché era praticamente del cioccolato all'interno di un velato di una velata carta stagnola praticamente cioè fatta praticamente con lo stagno e che cosa succedeva praticamente o era dell'alluminio no no era della carta stagnola quindi è fatto una carta fatta con dei fili con lo stagno praticamente stagno che oltretutto si usa anche per fare per le saldature infatti mi ricordo che molti potevano riciclare praticamente questa carta stagnola per fare le saldature e pensate un pochettino che pensate un pochettino che a volte si toglieva la carta e quindi ovviamente questa cioccolata andava e veniva riempita di batteri di mani ovviamente gente che addirittura leccava la cioccolata e ovviamente i bambini poi andavano praticamente a mangiare praticamente questa cioccolata e beh ragazzi va bene uomini riposatevi che stasera dopo la partita arrivo dopo la partita arrivi in calzoncini e ovviamente scarpetti oggi comprare una macchina non conviene proprio tra bullo assicurazione tagliando i vari costano una cifra meglio i mezzi dipende manux dipende dove devi andare io per la macchina la devo usare per forza per lavoro sicuramente ti consiglio di non comprare una macchina nuova che addirittura si svaluta fino mi sembra al 50% già dopo il primo anno oltretutto anche difficile perché c'è corri dei rischi perché te la possono rubare quindi ti consiglio sempre di comprare una macchina usata ti spendi veramente molto poco rispetto ovviamente a una macchina nuova sicuramente poi la vai a trovare per come è però dipende ovviamente dall'utilizzo che hai e devi fare della macchina io la macchina la devo utilizzare nei primis per andare sui cantieri quindi non ho praticamente una necessità di avere una macchina una macchina praticamente che mi possa ovviamente tendenzialmente possa curare possa lavare la mia macchina infatti è quasi sempre sporca è quasi sempre sporca perché io vado sui cantieri è normale quindi per una questione appunto professionale occhio con la pioggia sì effettivamente casinidone si scende qui siamo proprio in Giappone e quindi dobbiamo dire dobbiamo dire la verità praticamente che conviene sicuramente comprarlo usato e poi ovviamente in base alle necessità non in tutti i posti puoi andare con i mezzi pubblici e te lo dico io che amo camminare a piedi infatti quando vado in cantiere quasi sempre vado a piedi nel senso vado praticamente nell'ufficio di cantiere dipende ovviamente da dove sto e poi dopo mi sporco a piedi e quindi ho praticamente questo approccio all'architetto vecchio stile che si gira praticamente il paesello si gira il cantiere si gira praticamente la zona dove c'è l'intervento perché devo vedere praticamente mi piace vedere mi piace fare anche tante foto infatti mi ricordo molte volte da alcuni colleghi sono stato criticato nel dire fai troppe foto ma in realtà poi dopo queste foto quando facevano comodo ai colleghi venivano sempre utilizzate va bene ragazzi il volo è un furto dello stato vero e proprio non lo capirò eh mio caro una tassa e non lo capirai non lo capirai perché in realtà è una tassa ecco ragazzi Narpo Iuri Narpo Iuri per prima cosa ragazzi andiamo a salutare Narpo Iuri il nostro nuovo amico il nostro caro amico che è arrivato proprio oggi è arrivato non sappiamo che tipo di approccio possa avere praticamente con i videogiochi Narpo Iuri ragazzi non sappiamo se gli piace vediamo questo polli McCreirelli 3 in realtà caro Narpo Iuri io ho già trattato molti giochi di rally tra cui i sigarelli che sono giochi arcade i colli McCreirelli 1 e 2 e addirittura VRC i barboni ne conosci no Alessandro Arcangel non conosco i barboni io con gli esseri umani ormai ho un rapporto molto molto pacato nel senso che tendo ragazzi guardate questa parte qua guardate qui sopra con la pioggia addirittura vedo le goccioline praticamente della pioggia e addirittura i terzi di cristallo che appunto si muovono veramente molto bello ragazzi questo effetto mamma mia ragazzi no ragazzi no ragazzi guardate qui sopra cosa sta succedendo veramente qualcosa di incredibile titolone ragazzi veramente stupendo è un gioco veramente che ha una fluidità assurda un livello di dettaglio incredibile quindi sono stati molto bravi praticamente i programmatori a non andare non andare praticamente ragazzi che attenzione a Yuri a Yuri a Narpo Iuri lo salutiamo praticamente perché ragazzi perché da Narpo Iuri eravamo passati eravamo passati non ricordo il tuo canale Narpo Iuri nel senso che forse sicuramente ricordo i contenuti e la persona però non ricordo sicuramente il nick ecco qua su questo mi devi scusare dopo approfondisco comunque ti saluto ti saluto e mi fa piacere che tu sia venuto da me Barbone a Napoli ci sono uffa voglia sta Barbone se vai nella stazione centrale di piazza Caribaldi trovi purtroppo tante persone disagiate che dormono praticamente sotto la stazione anche di giorno dormono sotto la stazione perché non hanno un lavoro sono lì abbandonate purtroppo non si sa dove poterle portare addirittura ci sono situazioni analoghe sotto la galleria Umberto I al centro storico che spesso viene vengono presi praticamente queste persone disagiate vengono portate in luoghi particolari però purtroppo tendono a scappare perché poi non vogliono stare lì dentro hanno scelto praticamente una loro vita da nomade praticamente comunque ragazzi come potete vedere per quanto riguarda comunque il gioco ha una grandissima varietà un prodotto da 10 potete comperarlo a poco prezzo non lo si trova più lo potete trovare sicuramente usato a pochi veramente pochi pochi euro ed è un prodotto ragazzi che per quanto mi riguarda non ha veramente niente da invidiare ai titoli moderni io questo dico a volte guardate le gocce di acqua sopra al parabrezza io dico questo ragazzi invece di spegnere 60 euro 70 euro lo so che forse andrò a rompere il mercato videoludico andate a comprare andatevi a recuperare i giochi vecchi li portate su un vecchio computer li portate su un vecchio praticamente una vecchia console applicate i filtri guardate qua ragazzi guardate qua che grafica assurda cioè ma cosa ha da invidiare questo titolo guardate qui ci sono queste sono delle tombe sono le tombe praticamente alcune tombe praticamente giapponesi quindi ragazzi passiamo proprio davanti a un cimitero quindi ragazzi veramente non spendete soldi inutilmente come per esempio è stato annunciato il nuovo Gran Turismo che in realtà ha una grafica veramente molto bella in realtà però non è un salto generazionale allora è normale se volete giocare con gli ultimi giochi se volete giocare con gli ultimi percorsi con gli ultimi giochi con le ultime autovetture con gli ultimi percorsi dovete sicuramente andare su questi prodotti moderni ma quando tu mi vendi un gioco a 70-80 euro e ci sono giochi del genere che costano 1,2,3,4,5 euro con tutta la confezione il cd rom il dvd ma parliamoci chiaramente ma che senso ha? cioè che senso ha? io per 2,3 euro mi porto a casa un gioco del genere in formato digitale mi costa ancora di meno se voi andate sui tanti store ovvero sui tanti negozi che vendono videogiochi digitali li trovate a pochi euro la cosa più importante del gioco è la giocabilità sicuramente il divertimento solo dopo viene la grafica sicuramente sicuramente la grafica però ci sono persone che sono in realtà ci sono persone ovviamente non videogiocatori nel senso che forse non sanno giocare che dicono mamma mia non mi interessa per esempio Pac-Man Pac-Man ha una grafica minimale fa quasi ridere è un adulto però per esempio la giocabilità di Pac-Man è incredibile è incredibile soprattutto Pac-Man in versione tridimensionale poi ve lo farò vedere è un titolo che poi in realtà è uscito anche in sala giochi ma è uscito anche su Sega Mega Drive su Nintendo è veramente molto molto bello e in varie altre ovviamente console quindi in questo con le meccerelli 3 ragazzi non solo si unisce una grafica spettacolare ma addirittura si unisce una giocabilità incredibile ieri stavo giocando a Punk 3 mi sono divertito tantissimo caro Manux sì e questo è il bello dei videogiochi i videogiochi sono sicuramente un premio un premio che ti dai a fine giornata durante la giornata e per esempio stamattina ho lavorato gioco a giocare lune anche di sabato lavori sì lavoro anche di sabato mi piace molto lavorare e poi dopo praticamente mi sono dato come premio il videogioco dopo mi farò una passeggiata in modo tale da allenare anche il fisico c'è un senza tetto su youtube Luca lo sai c'è un homeless su youtube non lo so lo devo approfondire devo vedere anche i discorsi che fa perché spesso dalle persone povere arrivano le più grandi sapienze ragazzi ultimissimo percorso perché voglio farvi vedere ovviamente la macchina ovviamente dell'antico Colin McRae ovvero la mitica Subaru impresa quindi ragazzi andiamo ovviamente a prenderci la Subaru ultima macchina e andiamo qui sopra addirittura in Svezia praticamente ultimamente ho portato Metaslag mi diverte tantissimo ancora oggi caro Narpo Iuri Metaslag è una serie veramente bellissima pensa che Metaslag la sto portando anche io proprio come serie porterò anche il Metaslag tridimensionale nonché alcuni spin-off a livello di picchiaduro di Metaslag mamma mia ragazzi guardate il Subaru e pensa che Metaslag ha avuto anche degli episodi degli episodi praticamente unici addirittura su Gameboy Advance nonché su PSP quindi effettivamente mamma mia quindi effettivamente effettivamente è qualcosa di incredibile ragazzi non si lavora a giocare caro Manux no io sono uno stacanovista per il semplice motivo che mi sento male a non fare qualche cosa di produttivo nel senso che per esempio ti dico questo per esempio con il video streaming io ho avuto una grandissima una grandissima fortuna nel senso che io adoro i videogiochi e quindi in realtà metto a frutto quella che è la mia conoscenza videoludica divulgandola quindi è come se io tra virgolette tra virgolette lavorassi anche se non ne ricavo niente a livello economico però devo dirti la verità devo dirti la verità è divertente quindi è come se io facessi un piccolo lavoro un lavoro di tipo sicuro una passione metà tra una passione e un lavoro quindi ho proprio questo mio carattere oltretutto questo mio carattere mi deriva da mio padre che è uno stacanovista ancora più di me devo dire la verità quindi ho proprio diciamo questa mia mentalità anche perché da una parte essendo anche figlio unico e non avendo moglie e figli e quindi tendenzialmente rimarro solo una volta che i miei genitori non ci saranno può essere pure che moglio io prima dei miei genitori in realtà da una parte ho anche il timore di rimanere ovviamente senza soldi senza lavoro e soprattutto senza la salute perché ragazzi quando c'è la salute c'è tutto e quindi quando c'è la salute io posso lavorare posso fare anche quello che voglio da un altro punto di vista quando c'è la salute pensate un pochettino posso anche evitare di mangiare e quindi ovviamente avere meno spese narpo migliori a volte quando non so quale gioco figlio si finisce in uno meta slug meta slug è veramente un titolo bellissimo perché elementi di piattaforme elementi di picchi e di sparatutto ma ovviamente ha una grafica assurdamente bella per essere un titolo ovviamente bidimensionale ha una grafica assurdamente assurda bidimensionale sicuramente e poi ovviamente guardate ragazzi che cosa è quella macchina c'è qualcosa che corre c'è una slitta guardate ragazzi una moto slitta una moto slitta all'altra parte molto bella ovviamente questa aggiunta che hanno fatto i programmatori e quindi che dirvi ragazzi cambiamo ovviamente anche la visuale perché voglio farvi vedere ovviamente la visuale interna ovviamente con la neve praticamente qui sopra quindi vi ripeto io mi piace molto lavorare e cerco sempre di spremermi la giornata all'ultimo anche perché non so quando devo morire potrebbe essere oggi l'ultimo giorno e va bene Napoli Comicon ci vai in realtà ci vado ci sono andato da giovane da giovane come spettatore se non devo portare niente a livello ovviamente professionale non ci vado e quindi come spettatore non mi interessa Casmini con immagina ovviamente dice Marco Giuri il mostro delle nevi ti vuole attaccare il mostro delle nevi il gatto delle nevi comunque ragazzi dobbiamo dire la verità questo gioco ha una varietà veramente assurda giocabilità fantastica e sicuramente poi tutto totalmente in italiano ovviamente non sentite la musica per il semplice motivo che non c'è musica nel senso che si dà una maggiore enfasi ragazzi come potete vedere a quella che ovviamente è la grafica del titolo conosci lo youtuber Caverna di Platone l'ho sentito qualche volta poi non l'ho più seguito per motivi in primis di tempo nel senso che su youtube ultimamente sto seguendo veramente poche pochissime persone e anche perché spesso chi tanto predica bene poi dopo razzola male c'è infatti un famoso dottore che aveva creato il metodo della giovinezza oggi leggo la sua età in 49 anni l'età di questo dottore sembra mio nonno il dottore che aveva creato il metodo della giovinezza oggi pieno di rughe capelli bianchi a 49 anni con la pancia ebbè allora caro medico avevo ragione io a pensare che dicevi cretinate dicevi cretinate perché questo medico diceva che l'alimentazione a base vegetale e l'integrazione proteica servivano all'essere umano in realtà questo signore oggi ha la pancia e grasso un sacco di rughe e capelli bianchi che dobbiamo dire dov'è Eugênio dov'è Eugênio Eugênio Cruz ragazzi non lo sappiamo salutiamo Eugênio non lo leggo praticamente Eugênio Cruz non si lavora a fine settimana si lavora per se stessi qui Casminson utilizza utilizza ovviamente un modo di dire proprio Taurino nel senso lavora per se stesso ebbè anche il grande Marco Aurelio diceva più o meno la stessa cosa grande Marco Aurelio nonché non attivo zodiacale Taurino nonché grande condottivo sicuramente sicuramente romano non sappiamo John Cruz che fine abbia fatto non lo sappiamo speriamo che possa arrivare su anche lui praticamente in queste live e poi ovviamente eventualmente commentare i video in archivio su YouTube ragazzi in conclusione con il Mecrearelli 3 è un gioco spettacolare bellissimo a punto di vista grafico giocabile musicale nel senso degli effetti sonori grandissima varietà di gioco non so se ci sono anche delle macchine sbloccabili qua sicuramente si vedete le persone anche statiche sono veramente ben fatte io vi consiglio sicuramente di provarlo di giocarlo non c'era era per ricordarlo per ricordarlo forse perché non c'è più il povero genio e beh ragazzi quindi in conclusione provatelo procuratevelo perché ne vale veramente la pena il mio voto è 10 senza esclusione di colpi alla Van Damme e io vi ringrazio ovviamente per la visione saluto tutti quanti ci vediamo sul mio canale di YouTube e di Twitch attivate le varie campanelline YouTube sarà il mio archivio ed è il mio archivio mentre Twitch ovviamente è praticamente le live trovate ovviamente mi trovate i rapi sono bellissimi e purtroppo alcune volte esco fuori caro ragazzo che devo fare non sono Colin McRae e Rally e qui non sono Colin McRae e per il resto ragazzi ovviamente c'è il canale di Discord il canale di Telegram sul canale di Discord andatevi a vedere ragazzi il canale di Discord perché c'è anche Alessandro Arcangeli che mette tantissimi video interessanti e poi ovviamente il blog dove potete approfondire notizie aggiuntive sui videogiochi che tratto dove ci sono anche addirittura immagini di archivio ma figurate ragazzi ma figuratevi per questo intrattenimento è un piacere giocare con voi volevo già farla ieri sera in notte fonda pensate un pochettino questa diretta poi ho pensato visto che il gioco veramente era bello ma veramente bello ho pensato ovviamente di farvelo vedere in un orario normale perché perché ne vale la pena ne vale la pena ragazzi procuratevi questo gioco che è fantastico e quindi ringrazio io voi per avermi fatto compagnia in queste partite veramente incredibili quasi quasi ci giocherei ancora pensate a quanto è fatto bene questo gioco cioè ti porta dopo tanto tempo a volerci giocare ancora bellissimo col volante non oso immaginare come ragazzi in realtà tornerò prima delle 23 Alessandro Arcangeli però ci raggiungerà dopo la partita di palliere va bene ragazzi grazie mille per la visione e ovviamente fate sempre il vostro dovere e poi divertitevi con l'intrattenimento sia vostro che ovviamente forse anche degli altri grazie a tutti e ci vediamo dopo dal vostro giocherellone in automobile ciao a tutti ciao a tutti